Amici di Cusano Italia TV, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Crimini e Criminologia. Con la regia di Alessio Tancor andiamo subito a scoprire insieme quelli che sono i titoli della puntata odierna, cominciando da quello che sarà il tema centrale di questo appuntamento. Come vedete per la nuova grande stagione Crimini nei Cieli è arrivato il momento di parlare dei misteri della strage di Ustica. 27 giugno 1980, poi andrò a presentarvi gli autorevoli ospiti che ci parleranno dei misteri di Ustica, andiamo avanti però con i titoli perché andremo a parlare di un fatto di grande attualità, lo vedete Social Challenge, la morte corre sul filo. A proposito di quello che è accaduto a Roma in settimana con la follia di quei ragazzi youtubers che hanno causato la morte di un bambino di 5 anni in zona Casal Palocco a Roma, l'incidente in cui è rimasta ferita anche la mamma del piccolo e la sorellina più piccola del povero Manuel. Ancora un altro titolo che riguarda la puntata di stasera, ma questo è un appuntamento classico per la guerra Russia-Ucraina. Andremo a Kiev dalla nostra corrispondente Rina Gulei proprio per il consueto osservatorio sui crimini di guerra. E poi torna anche l'appuntamento con la rubrica Italia in giallo e nero. Oggi parleremo di un delitto forse poco conosciuto che però a Roma e per quanto riguarda la storia del crimine è stato in auge per molto tempo, il delitto dell'armadio, così fu ribattezzato dalla stampa, l'omicidio di Antonella Di Veroli. E poi avremo anche modo di approfondire quello che è stato un po' l'inizio di una nuova grande riforma della giustizia, soprattutto in chiusura con Michel Maritato, criminologo giornalista, il nostro opinionista presidente di Asso Tutela. Parleremo della riforma del guardasigilli Carlo Nordio perché con Maritato parlammo proprio di Nordio, nuovo ministro della giustizia quando si insediò il governo di Giorgia Meloni. Vi ricordo in apertura, altrimenti mi dimentico, che potete partecipare anche voi da casa inviando dei messaggi attraverso WhatsApp, nello specifico al 334-92-29505, il numero che vedete in sovraimpressione. Vado a presentare gli ospiti, cominciando dall'ospite che è in studio, come detto, misteri della strage di Ustica, crimini nei cieli, la nuova grande stagione, grazie ad Antonio Bordoni, esperto sicurezza a volo. Buonasera e bentornato. Buonasera e buonasera anche agli ospiti che ci seguono via filo. Andiamo a presentare chi è in esterna, per così dire, a cominciare dall'onorevole avvocato Carlo Giovanardi, di Popolo e Libertà. Buonasera, onorevole e bentornato a Cusano Italia TV. Buonasera a voi. Ci vedemmo proprio e ci sentimmo un anno fa per parlare dei misteri di Ustica e poi ritrovo con piacere, dopo averlo avuto ospite per il caso Mattei, il dottor Lupo Rattazzi, pilota e imprenditore aeronautico. Buonasera, dottor Rattazzi. Buonasera a voi. Come facciamo sempre, andiamo per cominciare a vedere quello che è il servizio copertina, la scheda introduttiva che racconta e riassume in meno di due minuti la storia di quel 19 dell'Italia, precipitato il 27 giugno 1980, con tutto quello che poi è ancora oggi, dopo 43 anni, quasi 43 anni, un alone di mistero che avvolge l'intera vicenda. Il servizio di Aurora Vena, montaggio di Claudia Di Fonzo. Vediamo. Il 27 giugno 1980, dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, parte il volo Italia IH 870, direzione Palermo. Sono le 20.08, due ore dopo l'orario in programma. A bordo 81 persone. L'arrivo allo scalo di Punta Raisi è previsto per le 21.15. Il DC-9 viaggia regolarmente e durante il volo non è segnalato alcun problema, ma poco prima delle 21, del velivolo si perdono le tracce. L'aereo è precipitato nelle acque del mar Tirreno. Nella notte, numerosi elicotteri, aerei e navi partecipano alle ricerche nella zona, ma solo alle prime luci dell'alba un elicottero di soccorso individua a circa 110 km a nord di Ustica alcuni detriti in affioramento e i primi corpi delle vittime. Delle persone a bordo, 77 passeggeri, di cui 11 bambini e 4 membri dell'equipaggio, nessun sopravvissuto. La mattina dopo, tutti i giornali riportano notizie della tragedia e si iniziano anche a fare le prime ipotesi sulle cause del disastro. Cosa può aver causato la caduta del DC-9? Forse un cedimento strutturale? Un missile aria-terra? Una battaglia tra jet militari che colpisce, per sbaglio, un volo civile? Oppure una bomba? Tanti aspetti della tragedia rimangono ancora avvolti nell'oscurità. Sebbene alcune sentenze civili che hanno accordato il risarcimento ai familiari delle vittime accreditano l'ipotesi per cui l'aereo potrebbe essere stato colpito per errore durante una battaglia militare. Servizio di Aurora Vena, montaggio di Claudia Di Fonzo. Partiamo dallo studio, ma soprattutto partiamo dall'aspetto tecnico, perché un anno fa, e potete trovare, recuperare la puntata andando sul canale YouTube di Cusano Italia TV, prendemmo peraltro spunto da un libro di Antonio Bordoni che ho ancora qui, ho qui, Ustica, il relitto parla. Possiamo anche vedere la copertina di questo che è il libro più recente di Antonio Bordoni in merito a Ustica, con prefazione di Frank Taylor, e proprio Frank Taylor intervenne ai nostri microfoni insieme a un altro perito che lavorò sui resti del 19 Italia e loro si espressero, così come si erano già espressi in sede di indagine, per l'ipotesi bomba. L'aspetto tecnico lo affidiamo all'esperto sicurezza volo Antonio Bordoni, battaglia aerea o bomba? E' questo un po' il dibattito, no Antonio? Dunque, buonasera, il tecnico a cui ti riferivi era Goran Lilia, lo sedesse Goran Lilia, esatto. Dunque io intervengo sempre molto volentieri a questi incontri su Ustica ogni fine giugno, però debbo confessarvi che sono alquanto demoralizzato, perché dopo 43 anni parlare ancora di mistero, di Ustica è alquanto deprimente e forviante. Si sa benissimo che cosa è accaduto, soltanto che la nostra controparte, quella che sostiene la battaglia aerea, ha usato, se posso usare questo aforisma, quello che diceva il Ministero della Propaganda del Terzo Reich, il Terzo Reich, Goebbels, diceva dite una menzogna 10, 100, 1000, un milione di volte e quella menzogna diverrà verità. Questo è quello che è stato fatto in questi 43 anni. Allora, per riassumervi brevemente, fino all'autunno del 92, quando il 19 dell'Italia giaceva a 3.400 metri di profondità nel Martirreno, effettivamente potevamo parlare di mistero, potevamo dire che erano stati gli UFO, c'era stata una battaglia aerea, eccetera. Quando è stato recuperato oltre il 95% della struttura del 19 e non si è trovata traccia della battaglia aerea sul relitto, continuare a diffondere questa notizia della battaglia aerea è veramente una mistificazione. Sentiamo l'On. Giovanardi a tal proposito, perché poi ha preso piede questa ipotesi della battaglia aerea? E devo dire, giustamente Antonio Bordoni dice che l'ipotesi è diversa quella che i tecnici hanno evidenziato, ma continuiamo a parlare di mistero. Se si parla con la Presidente Bonfietti, ad esempio, di mistero, si offende. A me rispose, quale mistero? È stata una battaglia aerea, punto e basta. Come mai ha preso piede questa tesi e da dove nasce, onorevole, tutto questo? Per la ragione detta da Bordoni. Aggiungo, e lo dico subito, a quegli imbecilli cretinetti che mi sono accorto solo recentemente riguardando la trasmissione dell'anno scorso e che mi hanno offeso in tutte le maniere, che quest'anno, dopo la trasmissione, andrò a vedere i loro commenti e tutti quelli che supereranno le righe li trascenerò in tribunale facendogli una bella causa civile, perché un conto è il confronto e un conto sono gli insulti. A maggior ragione quando tutti quelli che per 30 anni hanno aperto bocca e hanno straparlato i battagli aeree, eccetera, eccetera, purtroppo non avevano visto le carte. E non avevano visto le carte perché incredibilmente le carte su Ustica sono state resecretate solo dal governo Draghi. Cioè solo nel dicembre del 2022 sono state depositate dall'archivio di Stato e qui ne siamo in possesso. Nel carteggio che io come membro della Commissione Mora avevo già potuto vedere, e cioè dopo il sequestro dei missili terari a Dortona e l'arresto di Abusalec che era il referente dei palestinesi a Bologna, del fronte di liberazione della Palestina, il crescendo di minacce delle frange estremiste dei palestinesi che minacciavano una rappresaglia se non veniva liberata Abusalec, Abusalec venne condannato e il 27 giugno al mattino parte il capogramma da Beirut, del nostro addetto alla sicurezza della Baciata, che avvisa che siamo nell'imminenza dell'attentato che scatta puntualmente la sera con l'esplosione della Viuggetto. Purtroppo io anche l'anno scorso queste cose non lo potete dire chiaramente perché ero stato convocato a Palazzo Chigi dal governo Conte e minacciato fra virgolette dal capo dei servizi e dal capo di gabinetto a nome di Conte, che se avessi reso noto queste cose che erano ancora segrete, coperta segreto, segretissimo, e avrebbero denunciato. Quindi scrisero a me e anche la signora Cavazza, che è presidente della nostra selezione, la cui madre è morta sull'aereo di Ustica, che rendere note queste cose le deva l'interesse nazionale. Ora voi capite che è tragico, drammatico, che tutte le persone che in questi trent'anni hanno parlato ci sono riempite la bocca, non abbiano protestato sul fatto molto semplice che quello che indicava la pista vera di andare a vedere chi ha messo la bomba era stata coperta dal segreto. E nessuno ha protestato contro il fatto che ci fosse il segreto. Bene, adesso il segreto è stato tolto, le carte sono a disposizione, è assolutamente certo, come dice Bordone, che l'aereo è esploso per una bomba collocata natura di bordo. Adesso i magistrati, visto che l'inchiesta è ancora aperta, devono andare a scoprire chi ha messo quella bomba. E questo è il problema. E si aprono tante piste, fra cui quella, adesso che le carte sono note, di questa terribile minaccia di rappresaglia che, nero su bianco, scrivendo al governo italiano, si era fatta che il fronte di operazione della Palestina avevano portato avanti, richiamandosi all'Odomoro, cioè all'accordo, secondo il quale loro potevano far passare impunemente armi per il nostro paese e in cambio non avrebbero fatto attentati. Questa è la realtà dei fatti di cui parleremo anche nei prossimi giorni, pubblicizzando queste carte, perché è bene che chi parla e chi vuole intervenire non intervenga avendo guardato i film di fantascienza, le canzoni, gli sceneggiati, ma avendo consultato la realtà storica che risulta dalle documentazioni e da tutti i periti mondiali più famosi del mondo degli undici che hanno fatto parte della commissione Misiti, che hanno un'animità conclusa che c'era una bomba a bordo. Quindi veramente il mistero di Ustica è come ci possa essere un popolo, come ha detto giustamente Bordoni, di gente che crede a Goebbels, cioè crede alla propaganda e non va mai a verificare le fonti e quindi la realtà di come sono andate veramente le cose. E dice bene l'onorevole Giovanardi perché ci furono proprio dopo la puntata di un anno fa che titolammo, così come recita il libro di Antonio Bordoni, Ustica, il relitto parla, la vera storia della strage di Ustica, proprio fumo tutti bersagliati Antonio Bordoni, il sottoscritto, l'onorevole Giovanardi, potete andare sul canale YouTube di Cusano Italia TV con questa ricerca, il relitto parla Ustica e trovate la puntata e vedete quanti insulti ci hanno rivolto, solo perché abbiamo cercato di fare chiarezza anche ad autorevoli, esperti, periti che hanno lavorato sul relitto come anticipato. Adesso andiamo dal dottor Lupo Rattazzi, pilota, imprenditore aeronautico, non l'ho mai ospitata per parlare di Ustica, quindi chiedo a lei che idea si è fatta invece su quella che è stata la strage di 43 anni fa. Guardi, io mi sono fatto questa idea che come in altri casi, in altre tragedie del nostro paese, qui si è affermata, si sono affermati due verità, ovvero se ne è affermata una sola, che è quella di tipo mediatico e spettacolaristico, cioè in tutte le vicende, per esempio, che io ho studiato nel nostro paese, lei sa perfettamente, ho approfondito tantissimo la questione Mattei, ma anche il caso Moro e nel caso Ustica c'è una verità e poi c'è una verità, diciamo, chiamiamola mediatica, che è quella che consente di vendere libri, riviste, filmati, e poi c'è un'altra, e c'è anche la stessa verità, è quella che fa comodo a quelli che hanno un pregiudizio nei confronti dello Stato e che quindi è una verità che consente di gettare discredito sullo Stato. Io che idea mi sono fatto? Se lei va a vedere su Amazon, ci sono circa una ottantina di libri che parlano di questa vicenda, la grandissima maggioranza ne parlano appunto in termini complottistici e spettacolaristici, dove ovviamente la spiegazione è la battaglia aerea, di cui però in realtà quando uno si va a leggere i documenti seri, per esempio uno di questi è il libro di Franco Bonazzi, uno di quelli che ho trovato più attendibili, e anche quello di Bordoni, ma ce n'è ancora anche un altro, quando uno poi va a vedere i dati, non c'è alcun riscontro di questa battaglia aerea. Com'è nata, un particolare importante, com'è nata questa cosa della battaglia aerea? La sera dell'incidente di Ustica c'erano in azione due radar che contemporaneamente mandavano i segnali al centro di controllo di Ciampino. uno era un radar più vecchio e l'altro era Selenia, contemporaneamente in parallelo mandavano il segnale. A un certo punto, sbobinando i tracciati radar di questi due sensori, si è visto che sul radar più vecchio, quello più soggetto a interferenze elettromagnetiche, ci sono stati due ecchi prodotti, cioè quei puntini, per modo che il pubblico capisca, quando voi vedete i film, vedete il puntino con l'antenna che gira e si avvicina, ecco, c'erano due puntini soli sulla base del quale il giudice istruttore priore ha deciso che questa è la traccia di un aereo che attacca il 19 dell'Italia. Si è poi, al riscontro di analisi scientifiche su queste tracce radar, si è visto che assolutamente non si poteva assolutamente tracciare una traiettoria di un aeroplano attraverso due ecco, eccolo là, due ecchi radar, peraltro nemmeno consecutivi, perché tra l'altro questi ecchi non apparivano sul radar più moderno Selenia, meno soggetto a interferenze elettromagnetiche. Quindi tutta la ricostruzione dell'attacco di aerei, della battaglia aerea, era fondata su un fatto inconsistente. Inoltre io devo dire una cosa, cioè tutti questi atteggiamenti o le spiegazioni complottistiche non tengono conto di una cosa, che ci sono certi segreti che non è che possono essere tenuti insieme da migliaia e migliaia di persone, perché si parte poi sempre dal presupposto che la cospirazione abbracci una quantità di persone che è assolutamente inverosimile, soprattutto in un paese come questo. Io sono convinto che i paesi civili come sono credo quelli della Nato, se c'è un incidente di questo tipo, e lo dimostra quello che è successo con l'aereo dell'Iran Air, abbattuto per sbaglio da una nave della Marina Militare Americana, io penso che alla fine queste cose poi vengono fuori e vengono confessate. L'idea che migliaia e migliaia di persone partecipino a un complotto del genere, a mio avviso non sta in piedi. E la stessa ipotesi è stata fatta col caso Mattei e io credo di essere riuscito a dimostrare che è assolutamente inverosimile e non sta in piedi. E infatti lo abbiamo dimostrato in una puntata dedicata al caso Mattei. Vuole aggiungere qualcosa Antonio Bordoni e poi ti devo chiedere una cosa. A complemento di quanto detto da Rattazzi, circa i due plot radar, vorrei ricordare che durante gli studi della Commissione Misiti furono fatti esperimenti mandando F-104 in volo alle 20.59 nel punto Condor dove avvenne l'incidente Italia per vedere se questi F-104 erano visibili nei radar di Fiumicino e di Ciampino. Ebbene gli F-104 che volavano alla quota dell'eventuale aereo aggressore che avrebbe dovuto attaccare il DC-9 dell'Italia erano visibili ai radar. Quindi questa storia dei plot è stata chiarita in modo eccezionalmente ineluttabile, cioè non si può più parlare di tracce radar esistenti intorno al DC-9. Allora ripeto, è stato preso quello che restava del DC-9, non si è trovata traccia di battaglia aerea sulla struttura dell'aereo, è stato dimostrato che non c'erano aerei in volo e qui poi vorrei parlare un momentino del fatto che non sono stati interrogati per niente i comandanti che si trovavano a volare quel 27 giugno alle 20.59 in prossimità del punto Condor, perché loro hanno scritto che non c'era assolutamente battaglia aerea in corso. Quindi voglio dire, ormai le cose sono chiare. Sentiamo all'onorevole Giovanardi invece su un punto, volevo farla a Bordoni questa domanda, la faccio all'onorevole Giovanardi. Bordoni da esperto sicurezza volo per la stagione crimini nei cieli ci insegna che quando c'è un incidente aereo c'è una commissione tecnica che va a fare le indagini se c'è il relitto o meno, comunque se ne occupa. Perché in Italia a suo giudizio si sono mosse subito tante procure, Bologna, Roma, Palermo, questa è già un'anomalia se vogliamo. Perché in Italia purtroppo soprattutto a quel tempo il magistrato era il peritus peritorum, cioè il magistrato in Italia può superare anche i dati tecnici facendosi una sua idea di quello che è accaduto. Il problema è che il processo penale è arrivato fino in Cassazione, ha assolto con frumo rapiena tutti i generali dell'aeronautica che avevano rinunciato alla prescrizione e ha scritto nero su bianco nella sentenza penale passata in giudicato che quella della battaglia aereo è una trama degna di un film di fantascienza. Cioè in questi anni una sommatoria di balle, una più cosmica dell'altra, che sono giusto serviti a fare film, a vendere canzoni, sceneggiati eccetera eccetera. Dico a quello stuolo di, se non vorrei offendere di prima, che credono a queste cose, che siamo arrivati a un punto che se uno di loro pittasse, che davanti a casa la loro macchina o per un ritorno di fiamme o per una causa tecnica o perché un qualche loro avversario magari gli ha messo una bomba e l'ha fatta esplodere. Bene, loro invece dovrebbero credere a qualcuno che gli racconta che non è stata una bomba, non è stato un ritorno di fiamme, è stato un aereo misterioso che è passato sopra la loro città, ha lanciato un missile, il missile ha fatto saltare per aria la macchina e quindi la colpa è di chi è? È dell'aereo misterioso. Aereo di chi? Francese, no americano, no libico, no marziano, no italiano. Cioè come giustamente ha detto Bordoni, siamo dentro una roba talmente surreale che c'è da mettersi a piangere su come per tanti anni si è potuto andare avanti questo tipo di sceneggiata salvo un problema serio. In effetti il segreto di Stato prima e la classificazione segreta e segretissimo degli atti relativi a Ustica per trent'anni aveva alle spalle un concorso molto serio sia per l'Italia che per gli altri paesi europei ed erano gli accordi che questi paesi avevano fatto con la resistenza palestinese per evitare, basta andare a vedere adesso l'elenco che ha fatto una studiosa a Terra Cina della comunità ebraica, su quanti attentati e quanti morti ci sono stati negli anni 70-80 decine di rottamenti aerei, di attentati, per capire che tutti i governi cercavano di mettersi a riparo da questo tipo di attentati. Solo in Italia tutto questo si è tradotto in una politicizzazione e nell'indicazione da che parte, naturalmente dalla parte politica che allora era totalmente contrario ai francesi e americani. Stavano con l'Unione Sovietica quindi era inevitabile che in qualche modo la colpa a chi la dessero di quello che era accaduto ai nostri alleati, agli americani e ai francesi. Quindi si è costruita questa sovrastruttura totalmente fantasiosa e purtroppo sono passati decenni prima che queste carte potessero essere segretate. Ma adesso che le carte sono state segretate invito quelli che fanno i leoni di tastiera, gli andassero a leggere, di leggere quello che per 40 anni hanno parlato senza sapere quello che era successo. Adesso che è possibile saperlo, spero che chi è in buona fede possa convenire che si deve arrivare a cercare i responsabili di questo. Ricordo che quattro mesi fa come associazione per la verità sustica abbiamo fatto un'istanza al magistrato che ancora sta indagando perché non è passato in prescrizione sulla strage di Ustica, gli abbiamo chiesto di fare una nuova superperizia sul relitto dell'aereo, visto che c'è stata una grande evoluzione tecnologica e ci ha risposto che non c'è bisogno di nessuna superperizia perché la verità tecnica è quella che è stata scoperta nel processo penale. Bene, nel processo penale l'unica verità tecnica scoperta con 4.000 pagine di perizia fatta dagli 11 più famosi periti mondiali è l'esplosione di una bomba allora partiamo di lì e finalmente andiamo a indagare chi ha collocato quella bomba, chi si è reso responsabile di questa strage. Ripartiamo tra poco perché dobbiamo dare la linea alla regia, ad Alessio Tancorra, abbiamo tanto un altro capitolo e sentiremo Antonio Bordoni, intanto mi comunicano dalla redazione che in tanti ci stanno scrivendo 334-92-29505 ma non ci sono domande come dice giustamente l'onorrivole Giovanardi arrivano messaggi senza insulti, mi sottolineano però di chi si schiera da una parte e chi si schiera dall'altra. No, quelli li riservano soprattutto su YouTube devo dire che c'è più anonimato naturalmente con degli account pasulli. Torniamo tra poco ancora con i misteri della strage di Ustica. E ben ritrovati da Fabio Camillacci, secondo capitolo di Crimini e Criminologia, come vedete nel titolo continuiamo a parlare per quella che è stata veramente una grande stagione che ha accompagnato questo 2023 di Crimini e Criminologia, la stagione di Crimini nei Cieli. Ricordavamo prima anche con Antonio Bordoni, esperto sicurezza volo che naturalmente come avete visto ancora in studio tanti altri dirottamenti e tante altre bombe che hanno fatto precipitare, che hanno causato tanti disastri soprattutto in quel decennio degli anni 70 a proposito del conflitto israelo-palestinese. Come avete visto, visto che siamo ormai nell'imminenza del triste anniversario il 27 giugno 1980, ci soffermiamo oggi sui misteri della strage di Ustica. Oltre ad Antonio Bordoni in studio, in collegamento l'onorevole Carlo Giovanardi e poi in collegamento sempre il dottor Lupo Rattazzi, pilota, imprenditore aeronautico, poi avete intravisto prima anche il... mi viene di chiamarlo più senatore, perché è stato senatore, è stato ministro, sottosegretario, ma ci limitiamo a chiamarlo onorevole Giovanardi. Ripartiamo però da Antonio Bordoni, perché eravamo in debito con lui, voleva aggiungere qualcosa in chiusura di primo capitolo. Ecco, io non mi stancherò mai di ripetere che Ustica è stato un caso unico nella storia degli incidenti aerei mondiale, perché l'inchiesta tecnica tuttora mancante è stata fatta da un giudice, il quale aveva la figura del peritus peritorum e quindi era lui che alla fine avrebbe dovuto scegliere tra le teorie proposte dai tecnici quale adottare e quale rigettare, ma vi assicuro che le procedure internazionali dell'ICAO prevedono che sia una commissione tecnica a stabilire la causa dell'incidente e una volta che è stata stabilita qual è la causa dell'incidente interviene il giudice, il quale deve scoprire il colpevole. Purtroppo questo nel caso Ustica non è stata seguita questa procedura. Ecco perché ancora oggi ci troviamo a navigare in un marasma di ipotesi e parliamo in esattamente ancora di misteri, perché è stata adottata una procedura che non trova pari in nessun paese del mondo. Ripeto, la commissione tecnica stabilisce la causa, il perché è accaduto l'incidente, il giudice chiarirà chi è che ha premuto il grilletto. Nel caso nostro di Ustica la commissione tecnica Misiti, composta da professionisti internazionali, investigatori aeronautici, ha stabilito qual è stata la causa, un'esplosione della bomba, di una bomba di piccola dimensione nella zona toilet del 19. A questo punto però tutte le piste che dovevano essere state attivate, che avrebbero dovuto essere attivate per determinare chi è il colpevole, sono state clamorosamente ignorate. Ed è questa forse la colpa più grave, perché se si vuole rendere giustizia alle vittime, ai familiari delle vittime, bisogna capire chi è stato a mettere questa bomba. Invece con questa idea fissa della battaglia aerea tutt'oggi ancora non si sa chi è che ha premuto il famoso grilletto. Naturalmente facciamo anche un po' di storia a proposito dei passaggi importanti e quindi adesso torniamo a un servizio. Siamo nel 2011, arrivano le condanne per i Ministeri della Difesa e dei Trasporti. Riviviamo anche quella storia con il prossimo servizio. 100 milioni di euro. Questa è la cifra del maxirisarcimento al quale sono stati condannati i Ministeri della Difesa e dei Trasporti nei confronti dei familiari delle 81 vittime della strage di Ustica. Il Tribunale Civile di Palermo, ricostruendo i fatti accaduti la sera del 27 giugno 1980, ha ritenuto responsabili i Ministeri per non aver garantito la sicurezza del volo civile della compagnia aerea Itavia, ma anche per l'occultamento della verità con depistaggio e distruzione di atti. Secondo i legali dei parenti delle vittime della strage di Ustica, il risultato della vicenda processuale rende giustizia per la ultra-trentennale tortura che i parenti delle vittime hanno dovuto subire ogni giorno della loro vita, anche a causa dei numerosi e comprovati depistaggi di alcuni soggetti deviati dello Stato. La sentenza potrebbe inoltre aprire un nuovo percorso per la ricerca della verità. Infatti, sempre secondo i legali, fu un missile probabilmente di nazionalità francese o statunitense ad abbattere il volo del 19 Itavia, come alcuni testimoni, tra cui l'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, hanno affermato durante il processo. Ci si auspica vivamente, proseguono gli avvocati, che chi di dovere, nell'ambito delle proprie attribuzioni parlamentari, avvii ogni opportuna e da questo punto indefettibile azione nei confronti della Francia e degli Stati Uniti, affinché sia finalmente ammessa, dopo più di un trentennio, la responsabilità per il gravissimo attentato. I legali auspicano inoltre che in concomitanza della caduta del regime di Gheddafi, la nazione si è direttamente informata del contenuto degli archivi dei servizi segreti libici, nei quali si ha ragione di ritenere che siano contenuti ulteriori documentazioni rilevanti sul fatto, e ciò consentendo un accesso diretto da parte dell'Italia senza alcuna manomissione. Ecco, stiamo ripercorrendo alcune tappe, era un servizio del 2011 con le condanne per i Ministeri della Difesa e dei Trasporti, visto che nel servizio si faceva riferimento all'ex Presidente della Repubblica Francesco Costiga, chiedo a chi lo ha conosciuto bene, ovvero all'Onorevole Carlo Giovanardi questo. Costiga diventa attendibile in casi come questo, si dà ragione alla sua tesi o a quello che ha dichiarato, però non viene preso in considerazione quando invece dice che la strage di Bologna, la stazione di Bologna, a suo dire sarebbe stata causata, sempre per il discorso che facevamo prima con il Lodo Moro, da un terrorista di passaggio. Ecco, quindi c'è anche questo che accade in Italia, Onorevole? No, di peggio, perché di Costiga è stata presa una dichiarazione fatta il lunedì, ma il giorno dopo Costiga ha smentito quella dichiarazione. Non è vero che io ho detto che sono stati francesi, ho detto che l'ammiraglio Martini mi disse che, cosa che naturalmente l'ammiraglio Martini ha poi totalmente smentito, perché mentre da una parte nel processo penale abbiamo le perizie e abbiamo il quattro anni di processo eccetera eccetera, nel processo civile abbiamo una fragetta che dice è più probabile che non, è più probabile che non che sia stato un missile, perché? Perché nel processo civile che era cominciato con un giudice aggiunto dall'avvocato Vaticani, neanche magistrato a Palermo, lungo il percorso del processo civile era stato estromesso lo Stato come partecipante al processo, quindi non erano state ammesse tutte le prove che erano state trovate nel processo penale e il processo civile si è limitato a soffragare la tesi ipotetica di Vaticani come una ipotesi possibile e su questo ha condannato noi cittadini, poi con gli interessi eccetera eccetera, a pagare 20 o 30 euro ogni italiano per i giaciri familiari delle piccole, cosa che non c'entra assolutamente nulla con quello che è capitato e che torna a dire, non è stato solo soffragato dai tecnici, io come Ministro e come Sottosegretario l'ho ricordato, ho più volte risposto in Parlamento all'interrogazione, ho più volte come Governo italiano ricordato che era stata una bomba eccetera eccetera, a me in Parlamento non mi ha mai contraddetto nessuno, di nessuna parte politica, allora non si capisce come il processo penale, i tecnici, le perizie, il Parlamento, il Governo, l'opinione pubblica internazionale che sa benissimo che è stata una bomba, possa essere contraddetta da un mistero quale, che da Bologna qualcuno continua a insistere sulla fandonia della battaglia aerea, ma dove c'è un'aperizia sulla battaglia aerea? Bordoni ha detto bene, siamo dentro un circuito infernale nel quale la verità vera è che finora nessuno ha perseguito che si è reso responsabile della morte di 81 persone, cioè di chi ha messo la bomba a bordo, questa è la grande e terribile responsabilità, poi se qualcuno mi dice non buttarla in politica, ma io ce la butto un attimo in politica, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare perché se una bomba fa saltare la stazione di Bologna e ci sono decine di vittime è una tragedia, se invece una bomba fa esplodere un aereo con attorno a vittime è una provocazione, se qualcuno mi spiega questo io non l'ho ancora capito, io non ho mica preso una parte fatta, io ho seguito il processo, ho seguito le perizie, come Bordoni abbiamo ricostruito un filo logico assolutamente certo, sicuro delle cause dell'abbattimento della Piocetto e stiamo cercando di trovare la possibilità di punire i colpevoli, ma l'altra parte è, vorrei capire qui però forse posso capire all'inizio, immagino che nell'80 qualcuno fosse interessato per le ragioni che dicevo prima, gli accordi che avevamo con i palestinesi, di sollevare un polverone, di mistificare le eventuali responsabilità che venivano da quella parte, ma sono passati 43 anni, ripeto con dispiacere, solo da sei mesi abbiamo le carte, e dico a tutti i leoni da tastiera, leggetevi le carte, perché voi avete parlato in questi anni senza conoscere nulla, la cosa incredibile di questo paese è che chi parlava e metteva sentenze e faceva film, non sapeva assolutamente nulla, per esempio c'è motivo che le carte erano segreto di Stato, e poi tolte il segreto di Stato e sono state segretate, adesso sono visibili, allora chiunque in buona fede, che vuole cercare la verità e non fare polemica politica, deve insieme a noi, tutti assieme, arrivare a scoprire non la verità, non c'è nessun mistero, sapere chi ha messo la bomba, chi è responsabile di queste morti, poi se devo dire la mia, io credo che l'era aveva due ore di ritardo, probabilmente la bomba avrebbe dovuto esplodere quando l'era era già arrivata a Palermo, era già sulla pista, quindi probabilmente era un attentato dimostrativo, era una specie di, sì, la resistenza palestinese, visto che non liberava una buona bassa, poteva dare una dimostrazione, gli siano stati attenti, non siamo in grado di colpirli, poi l'era aveva due ore di ritardo e purtroppo ci sono state vittime che non erano state incalcolate, questa è un'ipotesi, ma finché non si indaga su chi ha messo la bomba, rimaniamo solo sul piano dell'ipotesi. E questo lo dicemmo proprio al proposito del ritardo, dell'esplosione che sarebbe dovuta avvenire, ovviamente con l'aereo vuoto, ne parlavo anche in un'altra occasione. Il giudice Priore ha stabilito che siccome il 19 partì con due ore di ritardo da Bologna era impossibile che ci fosse la bomba a bordo, vi rendete conto? Questo ha detto. Sentiamo invece Lupo Rattazzi su un aspetto che è già stato sollevato dall'onorevole Giovanardi a proposito di questo vizio un po' tanto italico, devo dire dottor Rattazzi, di cercare complotti ovunque, in qualsiasi tipo di fatto di cronaca. Beh, guardi, lo ripeto, prendiamo quei tre casi di cui ho parlato prima. Caso Mattei, è stato un incidente, versione poco interessante. È stata una bomba, molto interessante, consente di vendere libri, riviste, fare film, parlare di depistaggi, accusare lo Stato e le istituzioni. Caso Moro, sono state le Brigate Rosse, come peraltro ammesso dalle stesse Brigate Rosse, versione banale che non interessa perché ormai è conosciuta. No, è stata la CIA che ha armato le Brigate Rosse, oppure la DC che ha armato le Brigate Rosse, versione molto molto più interessante che consente di nuovo di vendere libri, film, di accusare lo Stato e di mettere in croce le istituzioni atlantiche, chiamiamole così. Incidente di Ustica, bomba, poco interessante. Missile? Eh beh, c'è di mezzo gli Stati, ci sono di mezzo i militari, le forze armate di Francia, di Stati Uniti, d'Italia. Interessante perché di nuovo con questa teoria noi riusciamo a vendere libri, riviste, Purgatori, avanza la sua carriera, mettiamo in croce di nuovo lo Stato italiano che non ha vigilato, eccetera. Parliamoci chiaro, Camillacci, la sentenza civile poi di fatto ha risposto all'esigenza di trovare il modo di risarcire i familiari delle vittime, ma per quanto riguarda la ricerca della verità non è andata da nessuna parte. A proposito di sentenze, abbiamo un altro servizio del 2013, questo relativo a una sentenza della Cassazione. Andiamo a vedere. Dopo quasi 33 anni è un giudice civile in sede di Cassazione a scrivere la verità definitiva sulla strage di Ustica e a inchiodare lo Stato alla responsabilità per la morte degli 81 passeggeri del volo Italia. Secondo la Suprema Corte non fu una bomba, ma un missile a far precipitare il 19 partito da Bologna e diretto a Palermo la sera del 27 giugno 1980 e i radar civili e militari non vigilarono come avrebbero dovuto sui cieli italiani. Per questo i Ministeri della Difesa e dei Trasporti devono essere condannati a risarcire i familiari delle vittime. È la conclusione alla quale è arrivata la terza sezione civile della Cassazione, nella sentenza che per la prima volta convalida la condanna al risarcimento di circa 1.200.000 euro, inflitta dalla Corte d'Appello di Palermo nel giugno 2010, per risarcire i parenti di tre vittime che per primi hanno intrapreso la causa civile, poi seguiti da altri 80 familiari costituitisi in un altro procedimento, per il quale i Ministeri dovrebbero pagare altri 110 milioni di euro. Con questa sentenza, ha commentato D'Aria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Ustica, è stata ribadita la verità. Io credo che sia una sentenza estremamente importante perché ribadisce, vorrei dirlo con forza, la ricostruzione che aveva fatto il giudice Priore già nel 1999, che appunto concludeva in sede penale che il 19 era stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea. Gli autori sono paesi stranieri, sono aerei militari di paesi stranieri che quella notte solcavano i nostri cieli insieme al 19 e poi è avvenuta la caduta del 19. Poi nell'ultima parte di trasmissione mostreremo anche un'altra intervista alla presidente Bonfietti perché naturalmente tutte le carte sempre sul tavolo, facciamo parlare tutti, peraltro nel terzo capitolo approfondiremo l'argomento con un ospite che invece sostiene la tesi della battaglia aerea, questo perché... Ma non è vero quello che dice la Bonfietti, non è vero che la sentenza civile dica questo. Questo è il vecchio, questo servizio però, te lo dico, è del 2013, è un vecchio servizio clare dell'Arabia, sarebbe come dire che Tortola era colpevole perché era stato rinviato a giudizio, ma Tortola alla fine è stata sua, signori, ma non solo, continuando a raccontare... Ma continuando a raccontare queste cose, non è assolutamente vero che la sentenza civile abbia accertato che c'è stato un missile, ha detto che è più probabile che non, c'è una probabilità che sia stato un missile senza aver esaminato nessuna documentazione tecnica che era stata esaminata nel processo penale, quindi continuare a rimestare questa vicenda di dire che i magistrati civili hanno accertato che c'è stato un missile è una totale menzogna, che serve solo a inquinare la situazione, non è assolutamente così, ma ci mancherebbe altro e quindi continuiamo, voi avete ragione, era roba detta nel 2013, ma siamo all'interno sempre di una mistificazione della realtà delle cose, delle prese tecniche e di quello che è accaduto quella notte. Credo che la Presidente Confetti sia ancora, lo ribadirebbe immagino, non è perché del 2013 di 10 anni fa, ma perché non vengono, scusi, perché non vengono, noi veniamo sempre, perché non vengono le trasmissioni televisive, i sostenitori della trasmissione, perché non si presentano mai? Mi ha risposto che, a parte aveva dei problemi di collegamento, però la risposta che mi colpì di più fu quella, lei mi parla di mistero e già non va bene, perché non è un mistero, è tutto chiarito, è stata una battaglia aerea e un missile, quindi lei capisce che di fronte a una risposta del genere uno resta spiazzato, perché vuol dire che non c'è bisogno, non vogliono dibattito evidentemente, non c'è dialogo, questa è la risposta che mi diede quando la invitai in un'altra occasione, quindi dopo quella volta, a parte questi contributi che mandiamo, ho ritenuto, perché voi siete per una tesi. Trovino un tecnico, trovino un tecnico che sostiene la loro tesi, uno, non deve venire la signora Bonfetti, trovino un esperto aeronautico che viene a sostenere la sua tesi, uno. Ecco, a proposito di imprenditori, no, volevo sentire il dottor Rattazzi, che anche, ovviamente l'abbiamo ricordato, oltre che pilota, imprenditore aeronautico, ma prima si era inserito, voleva dire la sua. No, volevo dire, in quel servizio si dice che i radar civili e militari non hanno vigilato, allora io ho voluto riparlare con Corvari, di cui io ero collega quando sono stato consigliere in ENAV, ed era l'ultimo controllore che è stato in contatto con l'India Hotel 870, col volo Italia, e lui mi ha detto, io non ho visto niente, perché non potevo vedere niente, in quanto l'aeromobile in quella posizione era oltre la mia portata, quindi il radar civile di Ciampino. Per quanto riguarda i radar militari, ho ormai accertato che non hanno visto nulla di sospetto tale per cui dovevano essere indotti ad avvertire l'aereo dell'Itavia, quindi si dicono delle imprecisioni incredibili. Io vorrei tornare su una cosa che ha detto l'onorevole Giovanardi, cioè a un certo punto noi che sosteniamo l'ipotesi della bomba ci avvaliamo di un rapporto di mille pagine preparato nell'ambito della commissione Misiti, a cui facevano parte decine di investigatori aeronautici, vi ho portato pure qui Frank Taylor e Goran Lilia che hanno spiegato perché è stata una bomba, io non ho mai inteso un dibattito dove i sostenitori dell'attacco mistilistico hanno portato un tecnico che dimostri la loro tesi che quella sera alle 20.59 sul punto Condor nel Martireno c'è stata una battaglia aerea. Addirittura, lo ripeto e lo sottolineo, ci sta il comandante Pezzopano dell'Alitalia che volava sulla rotta Tunisi-Roma con un Boeing 727 e che ha atterrato a Fiumicino si è accorto, dice io stavo lì in quel momento in cui si dice che nessuno mi ha chiamato per sapere, comandante scusi ma lei che volava lì alle 20.59 sull'Ambra 13, ma ha visto qualche cosa, cioè quando le indagini vengono forzatamente portate verso un punto morto, poi non ci meravigliamo se ancora oggi sentiamo queste, scusatemi il termine, castronerie di battaglia aerea. Prima, visto che andiamo verso le conclusioni, poi magari non c'è modo, in realtà questa domanda al Senatore Giovanardi avrei voluto farla all'inizio, la faccio adesso perché non c'entra nulla con la strage di Ustica, ma in settimana Onorevole Giovanardi è venuto a mancare Silvio Berlusconi e ovviamente avendo lei che lo ha conosciuto, ci ha lavorato, vorrei un suo ricordo, lei ha un'agenzia di Ennecronos, è uscito un lancio di agenzia poi ripreso anche da altri media, ha detto ho perso un amico, facciamo questa piccola digressione perché avrei voluto farlo all'inizio, ma facciamo adesso, il suo ricordo di Silvio Berlusconi. Ma guardi, è stato dicendo il governo con lui, ma prima ancora abbiamo avuto un'esperienza comune dei Salesiani, lui ha otto anni, dei Salesiani di Milano, io in quattro in quelli di Modena, per lui otto anni di messo obbligatorio tutte le mattine insieme con Follanieri, una disciplina particolare, una visione della vita comune, un uomo devo dire straordinario di un'umanità che ti hanno dovuto riconoscere, credo che l'Arcivesco Delpini ne abbia indicato con precisione le qualità ma anche i limiti, perché non rispondo che Berlusconi purtroppo Delpini l'ha detto alla fine, nelle mille qualità che aveva e nelle qualità di governo che ha avuto, domani uscirà un mio articolo in cui ricordo tutte le cose positive che ha fatto il governo, le riforme vere che ha fatto, non è vero che i governi Berlusconi non abbiano fatto niente, poi va dalle debolezze e le sue debolezze lo hanno in qualche modo rovinato, perché insomma non è mica un mistero che dal caso Rubino avanti i suoi comportamenti privati hanno inciso sulla solidarietà pubblica e tante volte parlandone con lui, qualche volta ridendo, qualche volta seriamente, gli abbiamo sempre detto che insomma se avesse evitato di, però l'uomo era fatto così. Quando gli ho detto ma quando hai le ospiti a casa tua, ma perché non ritira gli ospiti il telefonino? Ma perché fa entrare in casa persone che li prendono? E lui ha detto perché sono ospiti miei, per me gli ospiti sono sacri e io il telefonino non lo ritiro nessuno, era fatto così. Quindi che fosse un uomo straordinario non c'è dubbio, che avesse limiti e difetti non c'è dubbio, che alcune sue fissazioni gli abbiano complicato la vita non c'è dubbio, però credo che il tributo di affetto e di riconoscenza attribuitogli dalla grande e stragrande maggioranza degli italiani abbia dimostrato che un personaggio come lui, insomma il vuoto che lascia sarà difficile da coprire. Sicuramente una cosa la posso dire politicamente, io che non sono mai stato in Forza Italia, nel Popolo della Libertà sì, in Forza Italia no, sono un democristiano, no? Credo che l'esperienza politica di Berlusconi sia finita con Berlusconi, adesso c'è da tornare a ricostruire in Italia un'area popolare, liberale, di ispirazione democratica, che elegga i suoi rappresentanti come in tutta l'Europa, che elegga il suo segretario, perché un personaggio delle dimensioni di Berlusconi che possa sostituire Berlusconi non c'è. E lui me l'ha detto mille volte, quando gli dicevo Massimo, pensa alla successione, pensa a costruire un partito, lui mi diceva ma Carletto, sei amico mio, mi batteva la mano sulla spalla, perché la sua concezione era quella lì. E quindi non ha costruito un futuro di un partito, quando se ne è andato lui ha lasciato un vuoto immenso, difficilissimo da riempire. E ci tenevo al ricordo di Carlo Giovanardi, di Silvio Berlusconi. Abbiamo tre minuti per una chiosa finale dei nostri ospiti, cominciando dal dottor Lupo Rattazzi, per chiudere questi primi due capitoli di crimine e criminologia dedicati a Ustica. Guardi, non posso che ripetere quanto ho detto prima. Sarebbe auspicabile che la verità non venisse strumentalizzata e che soprattutto nel campo degli incidenti aerei si procedesse in modo più serio. Devo dire una cosa, che purtroppo al tempo dell'incidente su Ustica non esisteva l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che oggi esiste, è stata finalmente costituita con molto ritardo e sicuramente se succedesse una cosa del genere non si ripeterebbero gli errori di quel tempo. Detto questo, purtroppo il tema della spettacolarizzazione degli eventi tragici in questo Paese esiste, il complottismo esiste, tanto è vero che la LUIS ha sentito il dovere di fare una conferenza che si chiama in questo modo, perché evidentemente... Complotti, lo stile paranoico... Esatto, esattamente. Ne parlavamo anche per il caso Mattei, no? Alla volta scorsa. Esattamente, esattamente. Queste le sue conclusioni, che siamo veramente in ritardissimo. Quindi chiedo anche una conclusione rapida all'On. Giovanardi, o se ha qualche notizia da darci in extremis. No, no, guarda, io mi associo alle cose che ho fatto da Bordoni, ricordando anche una volta che il compito della politica sarebbe quello non di correre dietro le favole, ma credere ai tecnici, alle persone che conoscono la materia di cui parlano e fidarsi degli esperti e non dei ciarlatani o di coloro che devono vendere libri o produrre film per fare cassetto. Grazie all'On. Carlo Giovanardi e al Dottor Lupo Rattazzi per essere stati con noi. Grazie. Grazie. Alle prossime occasioni a entrambi. Conclusioni tecniche col tecnico. No, voglio dire che oggi si festeggiavano i 100 anni dell'aeronautica militare. Ecco, questo è importante. C'è stato a pratica di mare un bellissimo evento. Anche se è nata il 28 marzo. Bene, si festeggiavano oggi, si sono stati festeggiati i 100 anni dell'aeronautica militare, c'era Mattarella, c'era il Presidente della Repubblica, c'erano tutti altri esponenti. Ricordatevi che l'aeronautica militare italiana è stata messa pesantemente sotto accusa, è stata infangata nel suo onore, nell'incidente di Ustica, da chi sostiene la battaglia aerea, perché era necessario far sapere agli italiani che non erano stati in grado di proteggere i nostri confini. Ecco, questa è un'altra balla che è stata raccontata. L'aeronautica militare era reggia all'epoca, immagino, era il 28 marzo 1923. Non andiamo troppo inghietro nel tempo. Eravamo in pieno, all'inizio, possiamo dire, del ventennio fascista. Tu sai che io amo la storia e quindi appena posso un dato storico lo inserisco. Grazie anche all'esperto sicurezza volo Antonio Bordoni. Ci rivediamo presto con un'altra puntata di Crimini nei Cieli. È sempre un piacere. E la linea va Alessio Tancorra, ma restate con noi perché continuiamo tra poco a parlare dei misteri della strage di Ustica. Torniamo subito. E ben ritrovati da Fabio Camillacci, terzo capitolo di Crimini e Criminologia, ma continuiamo a parlare della strage di Ustica. Crimini nei Cieli, è la nuova grande stagione di Crimini nei Cieli, di Crimini e Criminologia. Sì, abbiamo trattato veramente tanti casi. È il momento, visto che siamo vicini al 27 giugno, di parlare di quanto avvenne proprio nel 1980 con la strage di Ustica. Ne abbiamo parlato nei primi due capitoli con dei protagonisti della politica, dell'imprenditoria, della stessa aviazione civile che sostengono appunto da sempre la tesi della bomba che ha causato quella tragedia. L'onorevole Carlo Giovanardi, il pilota imprenditore aeronautico Lupo Rattazzi, che è stato consigliere della Exor, ma ha lavorato anche all'Enav, lo ha ricordato anche lui, e l'esperto sicurezza volo Antonio Bordoni. Adesso invece andiamo a trattare lo stesso argomento, anche se vi abbiamo fatto ascoltare anche una vecchia intervista alla Presidente Daria Bonfietti. Poi in chiusura verso le 23.30, nell'ultimo blocco, vi faremo ascoltare un'intervista più lunga e più recente, realizzata proprio con la Presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Ustica. Però adesso invece per il discorso legato alla tesi missile battaglia aerea, ne parliamo in maniera più approfondita, con un gradito ospite che ritrovo con piacere dopo due anni circa, Alfonso Perugini. Buonasera, Alfonso. Bentornato. Grazie per l'invito. Circa due anni, perché era l'estate del 2021. C'erano gli europei? C'erano gli europei, peraltro quella puntata di Crimine e criminologia andò in contemporanea con la Nazionale, poi mandammo la Nazionale che si giocò la finale contro l'Inghilterra a Wembley, poi per questo mandammo una replica perché chissà quella sera… Abbiamo un bel ricordo di quei giorni. Però portammo bene, diciamo, andando in onda in quella occasione. Alfonso Perugini è regista, attore, giornalista e quando fu nostro ospite nel 2021 non aveva ancora scritto il libro che ora possiamo vedere. Io ce l'ho anche qui, però ecco, meglio così. Il muro di gomma, indagine sulla strage di Ustica. Questo è il libro che nasce dalla tua tesi di laurea. Ecco, raccontiamo un po' la genesi di questo libro che già raccontasti in quella puntata. Beh, sì, allora, ve l'avevo promesso due anni, era ancora un'idea. Nasce, come hai detto tu, dalla mia tesi di laurea magistrale, quindi nel 2012. Era un lavoro incentrato sull'indagine di Andrea Purgatori, che è il giornalista più sapiente in questo ambito di indagine, nella fattispecie della strage di Ustica. Però dal 2012 a oggi sono cambiate diverse cose e ci sono state anche grandi novità, a partire soprattutto dal 2014 in poi. Quindi già avevo, diciamo, l'invito di molta gente a pubblicare questa tesi e poi con il tempo questa necessità si è concretizzata nell'aggiornamento di quelli che furono i miei lavori del 2012. Ovviamente, diciamo, la parte monografica sul grande Purgatore è stata un pochino messa da parte, che comunque conserva, per logica di cose, una grande parte in questo libro. E poi, ovviamente, troviamo tutti gli aggiornamenti degli ultimi dieci anni, che sono molto, molto importanti, soprattutto a livello politico, perché solamente negli ultimi 8-9 anni abbiamo anche un sentore di verità politica. Mi spiego meglio. Nel 2014 il governo Renzi, all'epoca in carica, con un grandissimo atto di coraggio, comincia ad aprire gli archivi, i cosiddetti armati della vergogna, non soltanto sulla strage di Ustica, ma su tutti quei misteri italiani di cui io e te siamo molto appassionati. Diciamo che non c'è un fatto, lo scrivi anche nel libro tu, no? Non c'è un fatto della storia della Repubblica Italiana di cui sappiamo con certezza, no? Il 100%. Responsabili, mandanti, esecutori. Da portella della ginestra fino a, non lo so, dimmi qualcosa che è successo, forse il caso Calipari, ancora più recenti. Ecco, nel 2014 il governo comincia ad aprire questi armati, c'è anche un grandissimo faldone sulla strage di Ustica e alcuni di questi documenti possono essere trovati nell'appendice del mio libro. Esatto, infatti l'avrei detto, però fai bene a dirlo tu perché ci sono tutti i documenti interessanti. È una paura, ovviamente tutti quelli che ritenevo più interessanti. Da questi documenti che cosa capiamo? Abbiamo soprattutto delle conferme a livello di relazioni estere tra l'Italia e gli altri paesi della Nato e anche non della Nato. Ci sono tantissimi cablogrammi all'epoca top secret della Farnesina che danno una fotografia di quello che è il rapporto diplomatico dell'Italia con alcuni paesi del mondo, la Libia, gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra. Poi abbiamo diversi riscontri sulle varie indagini tecniche che sono state portate avanti nel corso degli anni, non solo riscontri sulle indagini giudiziarie, mi riferisco soprattutto alle indagini portate avanti dai giudici Santa Croce prima e il giudice Rosario Priore dopo che nel 1999, come è stato detto prima, ha emesso una sentenza d'ordinanza di 5.000 pagine. Spero che è un grandissimo tomo a livello giudiziario, però quello che veniva ipotizzato e reso in tesi nel 1999, noi lo abbiamo come riscontro, sono documenti del governo, quindi danno la verità, visto che la verità giudiziaria già l'abbiamo, la verità tecnica l'abbiamo avuta soprattutto non tanto con la Commissione per Italia Misidi, ma con quella del professor Casarosa che ha lavorato per più anni a questo ministero e da una tesi inoppugnabile dal punto di vista tecnico. Adesso, come dicevo prima, abbiamo una verità politica, almeno una parte di verità politica, e questo è molto importante perché dal 1980 al 2014 sono passati 34 anni, io ho 34 anni per dare il metro di giudizio al pubblico, è tanto tempo. Ne sono passati 43 da quel 27 giugno del 1980, però una cosa la possiamo dire, ed è giusto, come abbiamo sottolineato prima, in Italia nessun fatto di cronaca grave ha una verità vera, prima proprio parlando di misteri di Ustica, così come abbiamo titolato gli ospiti precedenti, sostengono che non c'è alcun mistero, è stata una bomba, molti invece che propendono per l'ipotesi missile o battaglia aerea, anche lì non c'è nessun mistero, in realtà certezze ne abbiamo poche da una parte o dall'altra, questo lo possiamo dire, tu facevi riferimento a Casarosa rispetto a Misiti, è stato recuperato il relitto, però ancora oggi si deve parlare di mistero per tante cose, anche se fosse stato un missile a una battaglia, non sappiamo chi lo ha sparato, chi c'era in volo quella sera, Francia, Stati Uniti, Su questo, allora, è un missile? Ammettiamo che è un missile, come io sostengo, un missile con una semicollisione, ovviamente io non dico nel libro, la tua tesi, questa è un missile, non che lo colpisce, esplode prima? Esplode prima perché è un missile a frammentazione, esplode in un raggio di 10-20 metri, perché se fosse un missile a impatto, noi non avremmo mai ritrovato tutto ciò, quasi tutta la massa del veicolo, avremmo tutta la parte di Prodiera inesistente in Prati, invece l'abbiamo, e questa è un'altra cosa che dice Casarosa, ingegnere dell'Università di Pisa, quindi bisogna solo alzare le mani, dopodiché, io dico è un missile, posso fare delle ipotesi su chi ha sparato questo missile, ma a questo punto cercare di capire chi lo ha sparato e perché può sembrare anche relativo a questo punto, abbiamo speso 40 e più anni a cercare di capire se fosse stata una bomba o un missile, io do una tesi su ampie basi del missile, cerco poi di dare una interpretazione plausibile su chi può aver sparato questo missile, quindi sì, metto in gioco la Francia, metto in gioco il Regno Unito, metto in gioco i Stati Uniti d'America, quindi diciamo metto in gioco la Nato del 1980, che attenzione, non è la Nato di oggi, la Nato di oggi non è il uno per tutti, tutti per uno, era anche un altro mondo, era anche un altro mondo, della guerra fredda, vivevamo ancora nella guerra fredda, l'Italia viveva ancora i colpi di coda della strategia della tensione, non dimentichiamolo mai. Poco dopo c'è la strage di Bologna. Sì, un mese dopo, 35 giorni dopo abbiamo la strage di Bologna, quindi la Nato nel 1980 è un capo, Stati Uniti, due grandi vassali in Europa, Francia e Regno Unito, e poi tutte le altre potenze minori, tra cui l'Italia, noi ancora di più, in quanto abbiamo perso la guerra, quindi dovevamo sottossare a una serie di gerarchie militari all'interno della Nato, quindi pensare al fatto che gli Stati Uniti potessero usufruire del nostro spazio aereo, come se fosse lo spazio aereo magari del Kentucky, era una cosa totalmente normale. Ora è una cosa nemmeno vagamente concepibile per come si sono evoluti... Ricordiamo Sigonella... Ecco, dopo Sigonella... No, ricordiamo Reagan che rimase sorpreso dalla risposta di Craxi, che era incredibile. Sì, perché infatti le cose cambiano nel 1980, cominciano a cambiare dopo il 1985, dopo Sigonella, dove noi ribadiamo la nostra sovranità, ma ci vuole Craxi, e ha ancora cinque anni. Appunto. Nel 1980 il primo ministro era diverso, avevamo ancora 40 anni di... C'era stata la crisi degli euromissili, anche, non lo dimentichiamo, insomma, era un altro scenario. Era un altro scenario, ancora poco propenso all'eurocentrismo che vediamo adesso, a livello strettamente diplomatico. Ecco. Quindi nel 1980 lo scenario è molto diverso rispetto a quello che possiamo immaginare oggi in ambito Nato. Questo è il motivo per il quale gli Stati Uniti, magari sono o non sono, coloro che hanno sparato il missile, ma certamente sanno qualcosa. La prova è nei documenti in appendice. Una delle tante prove. Nell'appendice del libro, e poi ci sono anche delle testimonianze che tu riporti, importanti, da parte di chi faceva parte, chi ha lavorato, insomma, per la Nato, anche militari. Soprattutto militari. E altri, appunto, che erano, diciamo così, in servizio in quei giorni, soprattutto in quel 27 giugno 1980. Come abbiamo fatto già nei primi due capitoli, andiamo a fare questa sorta di cronistoria, anche dei processi. Qui siamo nel 2015, quindi tre anni dopo, tu hai parlato di 2012, quando hai iniziato a lavorarci. La tesi del 2012. E poi hai iniziato a lavorare sul caso e hai detto dal 2012 a oggi ci sono state tante cose importanti, nuove, tante novità. Nel 2015 arrivò anche una sentenza della Corte d'Appello di Palermo. E allora vediamo il servizio. Il 19 Itavia, precipitato a largo di Ustica il 27 giugno 1980, provocando la morte di 81 passeggeri, è stato abbattuto da un missile. Lo conferma la prima sezione civile della Corte d'Appello di Palermo che ha rigettato l'appello dell'Avvocatura dello Stato. Secondo la sentenza, la strage è da debitarsi a un missile lanciato contro il 19 da un altro aereo che intersecò la rotta del volo Itavia e sono da escludersi ipotesi alternative. A ricorrere al rito civile, citando i Ministeri dei Trasporti e della Difesa, ora tenuti al risarcimento, erano stati 68 familiari delle vittime. Leggendo le carte, non poteva che finire così al commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della strage di Ustica. Ricordo che poi la sentiremo, la presidente Bonfietti, abbiamo un'intervista di circa 4 minuti, più recente rispetto a quella che vi abbiamo mostrato prima, però cerchiamo proprio di capirne di più con ospiti che l'hanno pensata e la pensano diversamente tra loro. Abbiamo voluto evitare il classico dibattito, il confronto, perché poi si alzano polveroni e non si capiscono le rispettive posizioni, rispetto a quelle di tutti. Sì, non si può mai raggiungere una sintesi, d'altronde entrambe le posizioni sono molto intransigenti e da parte di Daria Bonfietti direi anche giustamente ci mancherebbe altro. Per esempio lei, l'ho ricordato, quando la invitai mi disse a lei mi parla di mistero, già non va bene, non è un mistero, è tutto acclarato. Ecco, per questo io... Beh, sì, allora, ovviamente è un mistero, ovviamente per me è un mistero, adesso per me c'è la certezza del missile. Però, dici, i misteri sono altri. C'è un mistero su chi realmente lo abbia sparato, perché lì ancora bisogna ricostruire, bisogna capire. Capire chi lo ha materialmente sparato lascia un po' il tempo che trova. È come andarono le cose, i mig che si nascondi o in scia. Sì, è quella la tesi che regge, perché ci sono una marea di riscontri e di controriscontri. Faccio un esempio. Perché non può essere stata una bomba? Facciamo il ragionamento inverso. Mi piace ricordare il compianto giudice Paolo Borsellino, che nel 1988 era procuratore a Marsala. E lo ricordi anche nel libro? E lo ricordo nel libro. C'è la famosa telefonata a telefono giallo condotto all'epoca da Corrado Augas, in cui c'è la telefonata anonima di una viera in servizio quella sera che dice che tutti quanti nella sede del radar militare avevano visto il DC-9 cadere. Immediatamente Paolo Borsellino il giorno dopo ordina una perquisizione del sito di Marsala. Purtroppo non può portare avanti le indagini perché si trattava di personale militare e ovviamente Paolo Borsellino era il capo della procura civile quindi c'era un conflitto di attribuzione in questo caso. Però poi negli anni si viene a scoprire che c'è un registro ridotto del 1980 che è sopravvissuto. C'è un registro generale che viene bruciato dopo dieci anni di legge e poi c'è un piccolo registro che viene però conservato arriva agli inquirenti sembra tutto in ordine tranne per una cosa che la pagina relativa al 27 giugno 1980 è stata tagliata con una lametta tolta con una lametta con una precisione chirurgica ma manca quindi c'è stata una bomba che bisogno c'era e ci sono tutti questi lati oscuri così come tanti morti collaterali strani è uno dei tanti ho fatto un esempio ce ne sono veramente tanti dicevamo appunto anche queste strane morti di chi ha avuto a che fare in qualche modo con Ustica e che o si è impiccato in modo strano o ha avuto un incidente stradale o è morto in morte naturale però tanti tanti gialli anche ecco in questo caso mi piacerebbe ricordare la morte realmente avvenuta mediante suicidio del del maresciallo dell'aeronautica Dettori che era in servizio a Poggio Ballone in provincia di Grosseto quella forse è quella un po' più clamorosa è quella anche più scabrosa se vogliamo subito classificata come suicidio però pochi anni fa la moglie di Dettori è riuscita a far riaprire il caso dopo tutti questi anni Dettori morì all'inizio degli anni 90 quindi sono già 30 anni che sono passati dalla morte del maresciallo e quindi questo è un altro punto a favore sì del mistero del mistero del mistero però se era una bomba che motivo c'era si c'è questa questa situazione relativa ai depistaggi peraltro ecco immagini che vi stiamo mostrando con la regia di Alessio Tancorra sono protagoniste navi da guerra come avete visto aerei militari è chiaro perché oltre alle immagini classiche relative a ciò che rimane del 19 Italia al Museo della Memoria prima abbiamo visto anche delle immagini di giovani impegnati nel restauro di quelli che erano appunto i resti poi a oggi esposti al Museo della Memoria visto che già stiamo andando verso le conclusioni di quest'altro capitolo dedicato sempre alla strage di Ustica volevo approfittarne in quanto Alfonso Perugini regista e attore non solo giornalista e appassionato di questa vicenda per parlare un po' di come il cinema ha trattato la vicenda Ustica perché se ne parla nel tuo libro perché se ne parla allora vediamo il primo questo la prima locandina che abbiamo ovviamente preparato è il muro di gomma ma no è il film più importante è il film su Ustica tuttora perché fu il primo film su Ustica regia di Marco Risi sceneggiatura di Rulli Petraglia Purgatori un trittico che poi si è ripetuto su altre tematiche nel nostro cinema è anche bene ed è un film che racconta benissimo i primi dieci anni del missero di Ustica fino alle prime vere serie indagini da parte della commissione stragi preseduta all'epoca dal senatore Libero Gualtieri si conclude poi con l'amaro in bocca per la camminata del protagonista che è altro che la personificazione di Purgatori ha un nome diverso all'epoca era un grande giornalista lo è tuttora all'epoca era una firma prestigiosa del Corriere della Sera dopodiché passano un po' di anni c'è un film praticamente dimenticato che si chiama Ustica una spina del cuore di Romano Scalolini anche questa l'abbiamo preparata Ustica ecco questo è un film introvabile un film introvabile prodotto dalla Ivat Industries una società che io ho anche cercato nei registri della Camera di Commercio non si trova neanche tra le società questa è una locandina come vedete tratta da un DVD quindi evidentemente esiste sì esiste il DVD io ho avuto la possibilità di vedere questo DVD perché questo film non è uscito al cinema doveva uscire al cinema nel 2003 se non sbaglio esce in DVD solamente nel 2009 quindi già vedi i sei anni di ritardo allora Romano Scalolini io non ho parlato direttamente con lui ma quelli che quelli che lo hanno conosciuto mi hanno sempre detto eh lui dice no c'è un complotto verso di me perché io dico la verità Susi in realtà è un romanzo il suo film un'inchiesta giornalistica come Il Muro di Gomma un po' troppo romanzato almeno io non l'ho visto ho letto quello che tu riporti è molto romanzato però diciamo è un film che comunque ha voluto anche con coraggio trattare la strage di Ussi anche perché era un tema già all'epoca ancora scottante anche dovesse decadere l'interesse dell'opinione pubblica sulla strage di Ussica invece bisogna dare comunque atto al regista Scavolini di averci di averci provato al di là dei risultati tecnici che può offrire il film e poi c'è un altro e poi c'è un altro film possiamo vedere la terza lucandina che è Ussica Ussica del grande Renzo Martinelli che è il regista italiano forse più impegnato realmente nel cinema di impegno civile io ho intervistato Martinelli se non sbaglio nel 2014 o 2015 no 2014 lo andai a trovare nel suo ufficio di via di via Molveno qui a Roma e diciamo lui ha tutta una sua teoria io diciamo propendo con per l'ipotesi missile con una semicollisione lui nel suo film invece fa vedere una collisione e basta tra due aerei una collisione fra un aereo un caccia non vi voglio spoilerare tutto il film fra un aereo e ovviamente il DC-9 però Martinelli oltre ad essere un grandissimo tecnico dell'immagine a livello estetico infatti il suo film è un capolavoro di CGI e direzione della fotografia e di scenografia perché lui ha ricreato tutto da zero con un budget anche relativamente esiguo a quello che poi è stato il film e quindi è veramente comunque da vedere per gli appassionati di questa storia brutta però è un film da da vedere e poi ovviamente ricordi anche quelli che sono stati impegni relativi a trasmissioni famose che hanno trattato il caso io ti rimprovero di non aver inserito crimini e criminologia naturalmente nel tuo libro nella seconda edizione lo metteremo però poi andremo un po' in conflitto di interesse voi era una battuta naturalmente la mia ecco chiudiamo con quella che è la quarta di copertina il saggio di Alfonso Perugini racchiude le inchieste giornalistiche giudiziarie politiche relative alla strage di Ustica oltre alle inchieste viene dato anche ampio spazio alla strage di Ustica nei media con i film come abbiamo raccontato adesso poi gli spettacoli teatrali gli speciali televisivi dedicati in appendice sono presenti diversi documenti sull'accaduto classificati top secret fino a pochissimo tempo fa credo che siamo in conclusione proprio così grazie grazie a te grazie a voi come ogni volta grazie Alfonso Perugini regista attore e giornalista tra poco volteremo pagina anche se con la dottoressa Barbara Fabbroni come sempre una chiosa sulla strage di Ustica tra quello che è stato detto nei primi due capitoli e quello che ha appena detto Alfonso Perugini e poi andremo a parlare anche del dramma di Casalpalocco e di questa emergenza social challenge tra poco qui a Crimini e Criminologia e ben ritrovati un altro capitolo di Crimini e Criminologia ma volteremo pagina rispetto ai primi tre capitoli in cui ci siamo concentrati sui misteri della strage di Ustica anche se ora col prossimo ospite ci torniamo per la chiosa almeno per questa prima parte questa prima metà di trasmissione peraltro non l'ho detto in apertura come si saranno già accorti i fedeli telespettatori di Cusano Italia TV e di Crimini e Criminologia in una location diversa dal solito perché stiamo lavorando a grandi novità anche grazie al direttore artistico che è qui stasera e ci assiste Antonello Risati oltre ad Alessio Tancorra in cabina di regia presto quindi torneremo anche per già fallo d'estate quella che sarà la stagione estiva prima di ripartire con una nuova grande stagione di crimini e criminologia vado a salutare a introdurre il prossimo ospite che poi è molto notissimo ormai opinionista di crimini e criminologia giornalista e psicoterapeuta la dottoressa Barbara Fabroni buonasera e bentornata buonasera Fabio buonasera a tutti grazie poi avremo modo e più spazio nell'ultimo capitolo se ce la farà intervenire anche Michelle Maritato sarà lei con Michelle Maritato dobbiamo capire se riuscirà a essere presente perché sta presentando il libro su Aldo Moro che mi ha visto peraltro protagonista con la prefazione e quindi non sappiamo se farà in tempo intanto però le chiedo da come sempre opinionista che va a tirare un po' le somme e le conclusioni dopo aver assistito ai primi tre capitoli in cui abbiamo avuto ospiti i primi schierati per l'ipotesi bomba a bordo e l'ultimo invece Alfonso Perugini per la tesi del missile lei che idea si è fatta su tutta questa lunghissima vicenda di Ustica beh io credo che questa sia una vicenda dove la memoria e l'inchiesta si intersecano ma soprattutto io credo che ci sia anche il mistero perché se noi voglio dire andiamo a vedere che cosa significa la parola mistero mistero e l'incertezza e qui ci sono stati 40 anni di incertezza fino a che non hanno recuperato il velivolo e a quel punto i tecnici sono giunti a quello che poi hanno raccontato nella prima parte del programma però è anche vero che è una vicenda in cui si intrecciano tantissime situazioni oggi il 27 giugno saranno 43 anni comunque dall'attentato di Ustica o da quello che è accaduto quella notte e comunque c'è una frase tra l'altro nel libro di Perugini che a me è molto colpito perché tra l'altro che è una frase di Purgatori che lui ha detto beh ok il fatto che ci sia stata una bomba messa all'interno dell'abitacolo praticamente del bagno cosa molto particolare perché i sanitari sono stati ritrovati intatti quindi è chiaro che c'è un'incongruenza poi ricordiamoci che Purgatori ha dedicato gran parte del suo lavoro al mistero di Ustico comunque a questa vicenda e tra l'altro lui ne ha anche pagato con la sua carriera per cui credo che in questa vicenda ci siano comunque tante cose che sono state lasciate in sospeso per tantissimi anni e capisce bene che in 40 anni di profezie di ipotesi di misteri di punti interrogativi di idee o comunque di domande ce ne sono tantissime ma è anche normale non soltanto da parte dei familiari o di chi indaga o dei giornalisti di inchiesta ma anche dell'opinione pubblica perché di fronte a una situazione di questo genere è chiaro che si fanno tante domande alle persone e quindi la domanda che io mi sono fatta nell'ascoltare i suoi ospiti è perché abbiamo dovuto soprattutto aspettare il governo Draghi per togliere questi documenti segretati ma soprattutto perché il velivolo è stato recuperato dopo tantissimo tempo se era così semplice comunque prendendo il velivolo e capire che cosa era accaduto mi chiedo perché sono passati 40 anni ma soprattutto prima con Perugini avete anche citato la trasmissione di Aujas di Corrado Aujas che era dell'88 e poi subito dopo il fatto che Borsellino aveva ripreso la telefonata che ricevettero in diretta televisiva dove c'era tra l'altro Purgatori e anche Giuliano Amato e quindi capisce bene che poi tutto questo concatenarsi di cose è chiaro che porta anche a fare ed avere delle opinioni che si possono distaccare da quello che nella prima tranche di trasmissione i suoi ospiti hanno detto io credo che in tutta questa vicenda ci sia stata comunque tante volte anche come dire non dico il bisogno di depistare o di portare da altre parti però sicuramente una mancanza totale di verità immediata e capisce bene che 40 anni sono tanti è chiaro che adesso con il velivolo in mano con tutto quello comunque che gli esperti stanno cercando di tirare fuori da questa situazione è chiaro che cambiano no le declinazioni e possono cambiare anche i punti di vista però non dobbiamo dimenticarci questi 40 anni perché in 40 anni di fronte a un'incertezza non possiamo che fare tante deduzioni e io credo che le deduzioni che sono state fatte in queste 40 anni sono state anche legate a tutto quello che è stata l'evoluzione storica di questa vicenda io sposo la tesi di Perugini perché dal mio punto di vista anche per tutto quello che ho letto certo non sono un tecnico quindi mi baso soltanto su quello che è il mio ragionamento mi avvicino di più alla tesi di Perugini io non mi pronuncio come faccio sempre non mi pronuncio su alcun caso però questo vale per tutti i casi che abbiamo trattato e che continueremo a trattare e trattiamo ogni domenica qui a crimini e criminologia come amo dire io mettiamo sul tavolo tutte le carte che abbiamo a disposizione sentiamo tutte le campane quindi chi in questo caso propende per l'ipotesi bomba chi per l'ipotesi missile poi sono i tre spettatori a farsi un'idea e questo poi si evince anche leggendo i tantissimi commenti sul canale Youtube di Cusano Italia TV troverete domani a breve anche la puntata di oggi quindi potrete commentare evitate magari di andare giù pesante con l'onorevole Giovanardi perché ha minacciato querele a chi eventualmente dovesse commentare in modo particolarmente colorito questa storia mettiamo per un attimo da parte i misteri di Ustica andiamo a un titolo che avevamo preparato proprio per parlarne con la dottoressa Fabbroni ecco qua Social Challenge la morte corre sul filo il riferimento a quanto è avvenuto in settimana a Roma in zona Casal Palocco quel sub la Borghini che si è schiantato mentre girava da tempo in zona a caccia appunto di un record da mostrare poi su Youtube travolgendo la Smart uccidendo il piccolo Manuel di 5 anni e ovviamente ferendo anche chi guidava la mamma e l'altra sorellina un caso che ha emozionato molto abbiamo peraltro delle immagini che riguardano gli omaggi che proseguono anche in queste ore sul posto ecco vedete ovviamente tanti omaggi per il piccolo Manuel ucciso da quel SUV Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro insieme ad altri ragazzi ora proseguono le indagini però quello che volevo chiedere alla dottoressa è dove stiamo andando che deriva stiamo intraprendendo soprattutto a livello di giovani perché ci sono inchieste particolarmente preoccupanti uno studio ha evidenziato che tra gli studenti italiani tra gli 11 e i 17 anni quindi il 6,1% di loro che però sembra poco ma in realtà sono 243 mila giovanissimi che hanno ammesso di aver partecipato almeno una volta nella vita a una di queste sfide social pericolose come quella che ha portato alla morte del piccolo Manuel perché anche quella era una sfida social come tante ormai siamo abituati a vederne è una deriva pericolosa questa dottoressa beh assolutamente anche perché come diceva lei di queste challenger ce ne sono state veramente tante pensiamo alla balena bianca insomma diciamo che di anno in anno si susseguono ci sono diversi nomi in inglese diverse sfide chi resiste di più immerso nell'acqua ghiacciata o in mezzo al mare con una zattera cose del genere l'importante è riprendersi e mostrarlo e fare visualizzazioni e incassare e questo è il dramma no? qui sono 5 ragazzi che per 50 ore dovevano stare svegli e guidare in maniera incredibile all'interno poi di quella che è una cittadina perché sostanzialmente è con una maschina di grande lusso e che poi è accaduto purtroppo questo evento tristissimo e ha perso la vita il bimbo di 5 anni però tutto questo apre una finestra di osservabilità incredibile che come veramente una macchia d'olio colpisce tutto quello che è la rete internet ma soprattutto i social e soprattutto loro che sono dei youtuber delle persone che comunque all'interno di quel canale youtube mettendo in rete tutto quello che è più di pericoloso tra l'altro loro si ispirano ad un americano no? a Mr. Beat perché lui tra l'altro questo Mr. Beat questo uomo americano ha fatto come raccontano loro milioni grazie a questi video dove c'è il pericolo estremo e la stessa cosa volevano fare loro hanno sempre fatto loro fino a che non è accaduto questo incidente portano all'estremo chiaramente i video che caricano nel loro profilo youtube e li sfidano ma tutto questo comunque non soltanto ha come dire una ricaduta nelle persone che li seguono ma anche c'è anche una ricaduta economica quindi come vede si intreccia quello che può essere anche un riscontro economico rispetto a quello che è un mostrarsi no? sia nella cattiva che nella buona sorte in quello che accade l'importante è avere la fama esserci per l'altro ed esserci nel modo in cui l'altro per certi aspetti viene catturato dall'attenzione sì anzi forse diciamo il guadagno viene dopo è più una voglia di mostrarsi e c'è più soddisfazione a ricevere un commento o a vedere queste visualizzazioni che schizzano migliaia migliaia centinaia di migliaia piuttosto che il discorso del guadagno vero e proprio dice bene lei sì pensi che è la cosa addirittura tragica in questa vicenda che a distanza di poche ore dall'incidente da questo lutto terribile di questo bimbo loro hanno aumentato i loro follower quindi come dire le persone reagiscono in questo modo tra virgolette quella situazione estrema è diventata un modo per potersi fare della pubblicità certo una pubblicità assolutamente macabra però qui si apre come le dicevo prima una finestra molto grande anche perché è un ventaglio incredibile di declinazioni in cui entra in pratica in gioco non soltanto quello che questi ragazzi agiscono all'interno dei social ma quello che è l'insieme della società e quello che è soprattutto la genitorialità il modo di porsi verso i figli non ci dimentichiamo che Matteo Di Pietro poco tempo prima aveva postato un video con il padre in una Ferrari decappottata in cui guidavano senza cinture in maniera incredibile all'interno di Roma e tra l'altro il padre lasciava il volante di quest'auto quindi immagini anche come si intrecciano queste situazioni poi alla fine c'è anche l'ok da parte di una figura genitoriale che è quel genitore che dovrebbe insegnare la regola e l'etica di fronte comunque a quelle che sono le situazioni della vita e alla propria vita stessa la cosa interessante tra l'altro io mi sono andata a guardare cosa era scritto e cosa è scritto nella biografia di questi youtuber che tra l'altro hanno questo nome The Borderline che il borderline noi lo sappiamo come clinici dice già tutto esatto anche perché è quella patologia particolare quella linea di confine tra la psicosi e la nevrosi in cui sostanzialmente si perdono le coordinate della propria vita e loro tra l'altro dicono noi non siamo delle persone ricche nella loro biografia di questo profilo youtube ma noi tutto quello che facciamo lo facciamo per voi cioè lo facciamo per il nostro pubblico e tutte tutte le spese che abbiamo o meglio tutti gli introiti che abbiamo quindi il guadagno che abbiamo lo rispendiamo per darvi comunque questo come dire questa modalità di guardarci in queste situazioni al limite e proprio lì loro dicono che si ispirano a questo mister birch questo americano per cui immagini cioè l'intreccio e la modalità anche imitatoria che c'è dell'altro che sfida il limite e i limiti per poter esserci cioè io non ci sono più come persona come persona di valore cioè la mia ambizione legata soltanto a un'apparenza quindi tra l'avere l'essere questo giochi incredibile un po' scespiriano in cui poi alla fine quello che viene fuori è soltanto il porsi di fronte all'altro per la propria immagine per quello che noi diamo e la soddisfazione è stupire l'altro comunque vada l'altro deve avere di noi un'immagine di stupore e questo chiaramente mette spalle al muro ecco a proposito di genitori andiamo a chiudere questa parte con la dottoressa Fabbroni facendo ascoltare vedere ai telespettatori il ricordo di Manuel da parte di Alessandro che è il papà di un compagno di scuola del povero bimbo morto a Casal Palocco andiamo a sentire la drammatica testimonianza che poi peraltro serve anche per capire altri aspetti perché mette in evidenza anche altre cose particolarmente spiacevoli vediamo una roba scandalosa che uno dei genitori che è una persona che fa parte anche dell'asilo ha visto e ha cercato di dirgli cosa fare dopo che c'è un bambino a terra che sta morendo ti metti a fare un video e quindi ha reagito anche male se non sbaglio l'ha spinto l'ha strattonato è stato denunciato lui addirittura cioè stavano facendo un video dopo l'incidente sembra io non ci sono quello che mi hanno detto è che subito dopo sono scesi a fare dei video ridendo sorridendo scherzando perché la loro pagina si chiama Borderline quindi per loro era una cosa bella quello che hanno fatto e questo è lo scandalo di tutto ciò cioè lo scandalo è che questi ragazzi dopo che hanno fatto quello che hanno fatto invece che pentirsi di stare qua e essere dispiaciuti no erano tranquilli strafottenti e pensavano ancora ai video ai follower e ste schifezze questa è una schifezza io spero soltanto che questa persona marcisca assolutamente in carcere e poi la domanda che mi pongo io è 50 ore dentro una macchina per fare i deficienti ma a voi vi sembra una roba normale? sì sì il genitore di questo ragazzo lo sa che il figlio fa sta roba dove stava sto genitore? che ieri è venuto qui era tranquillo e sereno dove stava? se il mio figlio sta 50 ore dentro una macchina dentro un Lamborghini io da padre secondo voi non faccio nulla ma io dico povero Manuel bambino di 5 anni non c'entra nulla con queste porcate con questo schifo uno schifo questi facevano il video mentre guidavano e il padre di Manuel ha cercato di chiedere spiegazioni? non l'ho mai visto sinceramente ho visto la mamma più volte perché è un compagno d'asilo però a prescindere questo cioè io ho i video di Manuel un'ora prima che mangiavo a tavolo un bambino bellissimo tranquillissimo ed è vergognoso una roba del genere qui ci stanno tutte scuole c'è un supermercato come si fa a fare una roba del genere? la donna più grande è che ieri è stato qua 4 ore tranquillo una lacrima io se ammazzo un bambino di 5 anni mi impicco da solo questo è un avversato una lacrima io non ho visto una persona disperata non ho visto una persona disperata erano tutti sereni rapidamente con la dottoressa Fabroni andiamo a chiudere poi ci torniamo in chiusura di trasmissione poco da aggiungere dolore ricordo di un lui era Alessandro il figlio e il papà di un compagno di scuola del piccolo Manuel 30 secondi cosa l'ha colpita di più soprattutto le prime dichiarazioni immagino da genitore quello si è chiaro che di fronte a questa vicenda si resta tutti attoniti insomma e pone chiaramente tantissime domande dovrebbero dovremmo noi tutti quanti come genitori porci anche delle domande io ho trovato su twitter tra l'altro andando a guardare perché The Borderland questi ragazzi erano sponsorizzati anche dalla Sonitalia gli ha dato dei prodotti per poter fare i loro video e loro hanno proprio scritto che questi li hanno sponsorizzati proprio perché sono video divertenti e loro si divertono molto quindi capisce anche quanto poi alla fine il gioco comunque di certe situazioni alza ancora di più il tiro noi che veniamo dalla generazione in cui c'era la gioventù bruciata il film ma siamo giunti oggi poi a vedere una gioventù che non brucia soltanto se stesso ma brucia anche l'altro e l'altro non c'entra assolutamente nulla e la drammaticità credo che stia assolutamente in questo cioè porre l'altro come il mezzo per diventare noi comunque delle star su youtube o sugli altri social perché comunque come diceva quel papà comunque loro riprendevano quelle scene ed erano scene comunque in cui l'ultima cosa che ti viene da fare è di riprenderle e caricarle all'interno di una rete internet ci torniamo poi in chiusura per il momento grazie alla dottoressa Barbara Fabbroni ci rivediamo nell'ultima parte per altre conclusioni anche su altri temi ora volo rapidamente a Kiev andiamo in Ucraina apriamo l'osservatorio sui crimini di guerra e diamo la buona serata alla corrispondente da Kiev Irina Gulei buonasera buonasera Fabio buonasera a tutti allora abbiamo pochi minuti purtroppo ci siamo allungati ci siamo dilungati ma tiene banco sempre questa tragedia di Kakovka abbiamo delle immagini che ci ha inviato sì come tutti sanno più di una settimana fa i russi hanno fatto saltare in aria la diga di Kakovka e quello che vedete adesso l'acqua adesso scende e allora comunque rimane anche sulle strade adesso cioè oggi il capo della regione ha comunicato che per quest'ora abbiamo 16 persone morte dopo come le conseguenze di questa inondazione della regione di Kherson e della regione di Micolaiv e poi ci sono 31 persone disperse cioè non sappiamo dove sono non riusciamo né trovare i corpi di questa gente né identificarli tra i vivi quindi sono dispersi poi abbiamo già parlato di ecocidio che ha provocato questa esplosione della diga e della centrale idroelettrica di Kakovka adesso tanta pesce muore abbiamo anche ecco lo vediamo no hai detto bene ecocidio ecocidio poi io ho già raccontato tante cose con gli animali che adesso soffrono adesso anch'io cerco di prendere qualche animale dalle regioni di Kherson a casa forse un gatto o un cane dappertutto la gente proprio dappertutto in Ucraina cerca di aiutare gli animali da questa regione poi anche Greta Thunberg ha sostenuto la protesta in Germania eccola la vediamo sì contro le azioni della Russia lei ha sottolineato che si tratta di ecocidio provocato dalle azioni dei russi e quando l'hanno chiesto ma l'ONU fa abbastanza per risolvere questo problema per sistemare quello che sta succedendo lei ha riso dicendo che è ridicolo quello che sta facendo oggi l'ONU e volevo solo siccome non abbiamo tanto tempo di nuovo volevo sottolineare come ha reagito il mondo a quello che è successo ha detto che c'è uno scambio delle accuse tra la Russia e l'Ucraina al posto di dire che è un vero crimine di guerra da parte della Russia cioè il mondo continua a cercare la possibilità di giustificare quello che sta facendo adesso la Russia cercano le scuse per dire che forse non ha fatto la Russia e chiude gli occhi a quello che fa la Russia oggi non Putin ma i russi perché sono tutti ripeto di nuovo responsabili di quello che fa Putin e tutta l'autorità che hanno scelto e di quale hanno votato peraltro c'è uno sviluppo interessante importante in tal senso perché c'è proprio un'accusa specifica diretta che arriva dal New York Times che inchioda Putin dicendo Mosca ha distrutto la diga di Kakovka ci sono le prove ecco il New York Times lo dice esplicitamente no? Sì questa settimana hanno pubblicato anche le foto dove possiamo vedere quella centrale idroelettrica di Kakovka e da lì possiamo vedere che l'esplosione è stata organizzata da dentro non da fuori è l'unica possibilità come noi intendo i militari ucraini potevano colpirla da dall'area 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 sì invece dall'alto dall'alto invece questa esplosione è stata organizzata da dentro e ripeto che la centrale idroelettrica di Kakovka era sotto il controllo dei russi hanno preso sotto il loro controllo attaccando l'Ucraina e quindi potevano fare solo loro se non prendiamo in considerazione che i militari ucraini non potevano farlo così tanti danni alla nostra terra alla nostra gente anche se il mondo cerca le prove o possibilità di dire che anche questo poteva essere utile anche per i militari ucraini è una cosa molto cinica continuare continuare a chiudere gli occhi a quello che sta facendo la Russia e adesso vediamo che anche il New York Times finalmente dice che hanno fatto i russi invece il mondo continua a dire non sappiamo forse la Russia forse l'Ucraina una cosa per me molto cinica e ipocrita da parte da tutto il mondo a proposito per chiudere diciamo un punto importante si continua sempre a parlare ovviamente dell'auspicio di pace la mediazione del Vaticano la trattativa del Vaticano si è detto poi c'è stata questa diciamo spedizione dei leader africani ma Chieva ha detto che in realtà i leader africani si sono preoccupati solo del mandato d'arresto internazionale per Putin ma è vera questa cosa? Non è che parlano tanto di questo sono arrivati qua per parlare con Zelensky e per proporre il loro piano di pace quel piano di pace i risultati di cosa si tratta in questo piano di pace non sappiamo fino ad oggi però sappiamo come ha reagito Zelensky dicendo che noi dobbiamo finire questa guerra e dobbiamo farlo in modo che in tutti i nostri territori siano nostri non non possono rimanere sotto il controllo russo però dobbiamo anche dire che adesso questa delegazione è arrivata nella Russia e devono parlare anche il presidente russo quello che ho visto già nei media russi che a Putin non piace questo piano di pace proposto dai leader africani vediamo come prosegue questa situazione non si capisce bene adesso quello che sta succedendo anche se sappiamo che tanti leader africani parlano tanto hanno diciamo quasi amicizia tra loro paesi e la Russia hanno molti interessi immagino oltre che amicizia sì è così Fabio è così grazie Irina Gulei per l'osservatorio sui crimini di guerra anche di questa settimana ci rivediamo domenica prossima qui ma ti vediamo sempre naturalmente in quelli che sono i TG di Cusano Italia TV buon lavoro buonanotte certo grazie mille Fabio e alla prossima domenica grazie Irina Gulei tra poco un capitolo che ci riporta al 1994 per la rubrica Italia in giallo e nero parleremo del delitto dell'armadio tra poco e ben ritrovati da Fabio Camillacci l'ultima parte di crimini e criminologia per andare un po' a tirare le somme di tutti i temi che abbiamo fin qui approfondito a parte ovviamente il giallo del delitto dell'armadio l'omicidio di Antonella Di Veroli di cui abbiamo parlato con Mauro Valentini in Italia è giallo e nero perché adesso andiamo ad approfondire nuovamente il discorso legato alla strage di Ustica ma con i nostri ospiti volevo commentare anche questo inizio di riforma della giustizia a opera del governo Meloni e del guardasigilli Nordio e tornare anche sul dramma di Casal Palocco vado a presentare i nostri due compagni di viaggio per quest'ultimo capitolo e introduciamo subito il nuovo rispetto alla dottoressa Fabroni che abbiamo già avuto ospite prima ovvero Michel Maritato giornalista criminologo presidente di Asso Tutela buonasera e bentornato buonasera buonasera a voi buonasera dottoressa sento che va e viene un po' la voce proviamo a migliorare il collegamento con Michel e l'avete vista l'ha introdotta anche Michel Maritato la dottoressa Barbara Fabroni ben ritrovata dopo che con lei abbiamo già approfondito Ustica e quanto avvenuto a Roma con la morte del piccolo Manuel ecco ripartiamo da Ustica perché vorrei sentire Michel sulla strage e i tanti misteri e ripartiamo con un contributo ormai storico perché anche se è di due anni fa quello che disse nel 2021 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 41esimo anniversario della strage di Ustica perché quelle furono parole significative riassunte in questo servizio dell'Ansa vediamo una tragedia straziante impressa nella coscienza degli italiani che ha strappato alla vita 81 innocenti gettando i loro familiari in un dolore indicibile ma soprattutto lasciando la Repubblica senza una verità univoca capace di ricomporre appieno il quadro delle circostanze e dei responsabili il presidente Sergio Mattarella parla così della strage di Ustica a 41 anni dal giorno in cui un aereo di C9 e Tavia partito da Bologna e diretto a Palermo si inabissò nel Martirreno con il suo carico di passeggeri cresce ha aggiunto il capo dello Stato e l'essenzo di riconoscenza per l'impegno civile che i familiari sono stati capaci di esprimere promuovendo la ricerca della verità anche di fronte a condotte opache e ostruzionistiche incoraggiando gli uomini dello Stato che sono stati capaci di compiere passi importanti la Repubblica sente come dovere inderogabile la permanente espressione della solidarietà e l'impegno per una più completa ricostruzione dei fatti la strage che unisce nella memoria Bologna e Palermo è stata ricordata nell'aula del Consiglio Comunale del Capoluogo Emiliano alla presenza dei sindaci delle due città e dei familiari delle vittime che continuano a chiedere al governo in particolare al Premier Draghi e al suo prestigio internazionale di intervenire con altri stati in particolare la Francia per avere risposte su quanto accadde nei cieli italiani le 27 giugno 1980 un servizio di due anni fa con le parole che Mattarella pronunciò per ricordare le 81 vittime della strage di Ustica di quel 27 giugno 1980 ecco su quella strage volevo sentire il pensiero di Michelle Maritato non so se Michelle propende più per la ipotesi bomba o quella missile battaglia aerea perché abbiamo avuto ospiti che ovviamente sulle varie ipotesi si sono divisi la tua idea su questa vicenda Michelle ma Fabio intanto vorrei a dire al Presidente Marta insomma complimentarsi per la volontà e per la voglia dei pazienti di scoprire la la vita alquanto da un uomo ovviamente come lui più che altro mi sarei fatto un anno che in quattro anni sono i famigli di aria c'è devo interrompere perché quei problemi che avevo captato al volo effettivamente esistono sono concreti e riguardano l'audio soprattutto il tuo quando parli ci sono dei salti purtroppo adesso vediamo se riusciamo a risolverli allora facciamo così per provare a risolverli completiamo il discorso su Ustica e andiamo a sentire questa intervista che è stata fatta al presidente Bonfietti lo ricordavo prima infatti sono parole importanti quelle della Bonfietti che disse bisogna raccontare ai giovani la verità sulla strage di Ustica perché capiscano che certe battaglie sono importanti ecco così parlò Daria Bonfietti presidente dell'associazione familiari delle vittime di Ustica in occasione del quarantesimo anniversario della strage eravamo in pieno periodo di covid perché era il 2020 vediamo in questi giorni ricordiamo il quarantesimo anniversario della strage di Ustica un aereo civile che era partito da Bologna il 27 giugno del 1980 e che si è inavissato nelle acque del terreno c'erano 69 adulti e 12 bambini e qualcuno quella notte ha deciso che noi non solo noi parenti delle vittime ma gli italiani tutti non dovevano sapere quella notte si è deciso di raccontare una grande menzogna di dire al mondo che quell'aereo era caduto per cedimento strutturale quella notte ci fu una riunione all'ambasciata americana ricordiamoci sempre che su quell'aereo le 81 persone erano tutti italiani ma ci fu una riunione all'ambasciata americana ed è pensabile ed è possibile dire che in quel contesto in quella riunione si decise che cosa raccontare al mondo soltanto molti anni dopo nell'85 quando io riuscii a comprendere che in effetti non avevo una verità comprovata su questa vicenda sentivo che vi erano altre possibilità qualcuno diceva altro penso a Andrea Purgatori che raccontava sul Corriere della Sera altre cose dicendo che era stato un missile insomma sentivo che non era la verità quel cedimento strutturale raccontatoci e quindi iniziai la mia battaglia la mia battaglia fu di interessare un gruppo di intellettuali che scrissero una lettera al Presidente della Repubblica affinché ed era già l'86 si rimuovessero le cause che impedivano la verità di farsi luce è stata quindi una battaglia forte voluta e dall'88 in poi condotta anche assieme ai parenti delle vittime nell'88 ci sono riuscite dall'88 in poi ci siamo costituiti parte civile ci riuniamo tutti gli anni e anche domani sarà così qui a Bologna facciamo le nostre assemblee cerchiamo di andare avanti ma l'importante è che dopo tanti anni ci possiamo raccontare che abbiamo ottenuto con fatica davvero ma abbiamo ottenuto la verità noi oggi sappiamo e lo sappiamo già dal 99 quando il giudice priore appunto consegnò la sua sentenza ordinanza che il 19 è stato abbattuto abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea quella notte non c'era un'operazione della Nato c'erano operazioni di singoli paesi e i paesi quella notte presenti nei nostri cieli erano americani francesi inglesi belgi e alcuni con la targa spenta probabilmente libici in questo contesto il giudice conclude dicendo è uno scenario di guerra qualcuno ha abbattuto qualcun altro chissà cosa si voleva fare quella notte non certo abbattere un aereo civile ma sono questi paesi dice il giudice che ci devono consegnare la verità quindi è ben credibile che quella notte come dirà Cossiga da 2007 in poi ci fosse in quell'area ci dovesse essere l'aereo del leader libico Gheddafi ed è ben possibile che questi paesi nostri alleati lo aspettassero e avessero qualcosa qualche conto da chiudere con questa persona con questo leader libico e allora è evidente che quell'azione sarebbe stata inconfessabile se fosse avvenuta perché allora c'erano ancora come sapete i blocchi c'era l'Unione Sovietica c'era il patto atlantico e se noi paesi occidentali avessimo compiuto un'azione del genere e quindi eliminare il leader libico Gheddafi probabilmente l'Unione Sovietica avrebbe avuto delle reazioni molto dure questo come cittadina non ho potuto quando sono riuscita a rendermene conto accettarlo e ho fatto tutta la battaglia che sapete insieme a tanti altri che mi hanno accompagnato per riuscire a dimostrare quello che è successo quella notte è una battaglia durissima ma che abbiamo vinto e serve anche per raccontare come dicevamo prima ai giovani che magari non sanno nulla di questa vicenda che ognuna di esse delle nostre istituzioni hanno avuto dei comportamenti criminali ma è importante per i giovani sapere io credo che le battaglie si possono anche vincere e quindi che è importante farle e smettere di pensare che perché sono uomini degli apparati non si debbano scoprire come avevamo anticipato lo ha confermato con la sua stessa voce la presidente Daria Bonfietti ricordo presidente dell'associazione familiari delle vittime di Ustica qui in occasione del quarantesimo anniversario della strage era il 2020 e quindi ha conferma che poi questa parte di familiari delle vittime perché c'è un'altra associazione familiari delle vittime che invece è convinta dell'ipotesi bomba ecco perché a volte quando noi mettiamo la parola mistero si risentono sia coloro che sostengono la tesi bomba sia coloro che sostengono la tesi missile perché sono convinti che è così in realtà certezze non ne abbiamo né per una cosa né per l'altra realmente però noi cerchiamo sempre di essere il più precisi possibili come dico sempre sentendo tutte le parti in causa vediamo proviamo con Michel se ora va meglio l'audio Michel Ustica sì mi sentite meglio adesso pare di sì vediamo se salti ecco stavi dicendo invece prima riferimento a Mattarella mi raccomando non mi arrivare a vilipendio del Presidente della Repubblica no 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 per carità mi farebbe piacere qualcosa su Mattarella su quello che ha detto due anni fa assolutamente stavo dicendo che un uomo di grande espessore politico come Mattarella mi fa pensare quando dice delle parole di questo tipo dobbiamo ringraziare i familiari delle vittime che hanno in qualche modo contribuito e hanno fortemente voluto la ricerca della verità ecco se la ricerca della verità però deve essere dettata dai familiari delle vittime e non dalla giustizia che invece come diceva la Presidente si nasconde dietro a ideologie idee ideali e dietro ai segreti di Stato lasciando impunito chi veramente ha compiuto questa strage io rimango veramente basito su quello che può arrivare a fare la politica e quello che può arrivare a non fare la politica stessa per non far in qualche modo uscire fuori delle verità su degli uomini di Stato che potrebbero essere coinvolti rimango veramente basito e dopo 42 anni ancora queste persone non hanno una verità e dei corpi su cui piangere cioè è veramente pazzesco non possiamo concedere ogni volta a questa politica deviata a questa frangia di politica internazionale deviata la possibilità di prendere l'Italia come un giocattolo e addirittura poter fare delle esercitazioni militari per uccidere probabilmente che dati per fare uno sfregio all'Italia per poter contribuire alla strategia del terrore tanto perpetrato in quei tempi in quegli anni tempo per tempo in Italia e non lo possiamo permettere perché ancora oggi noi non abbiamo delle verità su certi casi su questo e su tanti altri che sono accaduti proprio in questi anni 79 80 81 78 che ci lasciano ancora con quella mano in bocca che ad oggi non ci dà la sicurezza e la certezza di essere liberi dalla politica internazionale e di essere protetti da uno Stato che dovrebbe proteggerci uno Stato giusto protegge il più debole qui mi sembra che non è protetto nessuno né il più debole né il più forte anzi mi sembra veramente che siamo all'autonomia più totale e allo spacciato totale quindi per questo io mi appello al Presidente della Repubblica che è persona di grande stima e grande rispetto per poter veramente porre fine a questa tragedia con la parola verità come dice il nostro amico Pietro Orlandi la verità ci renderà liberi peraltro prima ti avevo chiesto quando c'erano problemi di audio nelle tue risposte che idea ti sei fatto se propendi più per un'ipotesi rispetto a un'altra mi pare di capire diciamo che sei più per l'ipotesi battaglia aerea missile o in generale condanni quelli che sono stati i depistaggi su tutta la vicenda ma io condanno tutti quelli che sono stati i depistaggi che sono stati su questa vicenda io la mia idea è quella del combattimento aereo quindi con il missile e l'abbiamo da sempre detto qui a Crimine e Criminologia io ho questa idea ma l'hanno tanti altri nostri amici anche a Fabroni a quanto ho capito prima esattamente e anche tanti altri amici di Crimine e Criminologia condividono con noi questa ipotesi ecco poi chiaramente noi siamo qui e siamo spettatori dopo 40 anni bisognerebbe essere stati spettatori al tempo o spettatori nel contempo questo purtroppo ce lo potrebbero raccontare solamente le vittime che non possono più parlare ecco questa è la cosa che mi fa più rabbia e che oltre il danno anche la beffa adesso vado alla dottoressa Fabroni perché visto che abbiamo anche Michelle Maritato volevo commentare con voi questa riforma della giustizia questo inizio diciamo di riforma della giustizia andiamo a ricordare quella che è stata la notizia della settimana scorsa la presentazione del ministro della giustizia Carlo Nordio di questa riforma che riguarda soprattutto il reato d'abuso d'ufficio poi sentiremo il guardasigilli e l'utilizzo delle intercettazioni osteggiata da una parte della magistratura fortemente voluta da tutta la maggioranza di governo in sintesi l'abuso d'ufficio scompare si riduce drasticamente la portata del traffico di influenze illecite poi spiegheremo bene cosa sono si ampliano i diversi i divieti per i giornalisti in materia di intercettazioni il PM non potrà più impugnare le sentenze di assoluzione a meno che non si tratti di reati particolarmente gravi mentre sulla richiesta di custodia cautelare in carcere si dovrà pronunciare un giudice collegiale e prima della decisione l'indagato dovrà essere interrogato dal giudice appena la nullità della misura misure decisamente garantiste dottoressa Fabbroni beh sì certo ma credo che siano anche necessarie noi siamo arrivati a un punto in cui veramente ci sono tanti nodi da dover sciogliere anche a livello comunque della giustizia che restano come dire all'interno di questa grande rete tantissime situazioni in cui poi alla fine si incancreniscono in tanti anni di attesa dove non si vede assolutamente la fine io credo che siamo arrivati veramente come dicevo ad un punto in cui forse dobbiamo anche sciogliere di più e velocizzare arrivare alle sentenze in maniera completamente diversa comunque sfrondare tantissime cose e avere una linea guida che sia coerente con quello comunque che accade con tutte le vicende che riguardano quello che è la giustizia sentiamo anche Michel Maritato prima di andare a sentire il ministro Nordio perché Michel quando si insediò il governo di Giorgia Meloni nell'autunno del 2022 fu scelto nominato il ministro della giustizia commentammo con te e con Paolo Cochi questa scelta ecco possiamo dire almeno questo sembra i primi passi di questo nuovo guarda sigilli fanno ben sperare perché c'è bisogno di garantismo nel nostro paese bisogna un po' smetterla con i manettari di professione adesso ci sono anche le brigate del reddito di cittadinanza bisognerebbe un po' rientrare nei limiti che ne dici? Diciamo che sì assolutamente Fabio sono d'accordo con te ne avevamo parlato anche con Paolo ne avevamo parlato all'inizio proprio della nomina del nostro ministro Nordio purtroppo con l'avvento del Movimento 5 Stelle con l'avvento degli urlatori che volevano aprire il Parlamento come scatolette di tonno che poi si sono rivelate loro le scatolette di tonno e purtroppo è andato in scena il motivo teatrale degli ammanettatori di questa gente che urla al giustizialismo che cerca giustizia che poi alla fine andando a vedere magari loro sono peggio degli altri e quindi è andato di moda per anni e questo ha portato questo senso di giustizialismo nel mondo civile che oggi fa paura che oggi fa veramente del processo mediatico una professione noi questo non lo possiamo permettere dobbiamo necessariamente grazie anche a questo ministro che peraltro è un ex magistrato quindi conosce molto bene la materia non è un improvvisato come magari potevano essere altri e quindi chiaramente sta mettendo le mani dove è giusto metterle chiaramente la riforma della giustizia italiana deve essere una riforma profonda una riforma che viene da lontano non di certo si può fare con 6-7 mesi di governo non di certo possiamo pretendere al ministro Nordio che con la bacchetta magica sistemi ogni cosa come diceva giustamente questo è un principio è un inizio è stato detto è una prima parte già osteggiata soprattutto dall'associazione nazionale magistrati anche gli avvocati vorrebbero un confronto ecco prego prego per precisare mi sembra anche giusto un confronto con gli operatori del settore certo ma chiaro vivono a legge ogni giorno però comunque diciamo che Nordio a differenza di altri non è uno sproveduto e viene da quel settore quindi chiaramente sa dove mettere mano come giustamente diceva Barbara Fabbroni abbiamo bisogno di un cambiamento sostanziale abbiamo bisogno di un ritorno a quello che è il garantismo a quello che è insomma un attimo la volontà di poter dare una possibilità a qualcuno di difendersi e non di sbattere il mostro in prima pagina come anche tu hai detto ormai siamo veramente allo stacero e quindi chiaramente dobbiamo in qualche modo essere pronti a difenderci dal giustizialismo chiaramente ho sentito dei colleghi giornalisti proprio l'altro giorno in un confronto su un'altra trasmissione di una radio di pubblico servizio nazionale che dicevano che siamo arrivati al punto del nuovo bavaglio non si possono pubblicare intercettazioni ma io vorrei rispondere a questi colleghi giustizialisti che vi starei sereni perché non è nessun nessun bavaglio anzi è una garanzia nei confronti degli imputati delle persone che sono coinvolti in un processo che poi se dovessero rivelarsi innocenti e non come magari o la procura o chi per loro li accusa chiaramente poi loro si riportano sul giornale delle intercettazioni saranno costretti poi a rifondere i danni e a rispondere per i reati di calugna e di diffamazione quindi io inviterei anche i colleghi a molta calma riflessione poca mediaticità poca politica perché molto spesso i nostri colleghi giornalisti espongono delle idee di politica sinistroide che per partito preso deve essere contro quello che può fare il governo Meloni io non sono con il governo Meloni io non rappresento la politica della soprattutto per evitare di rovinare la vita di persone che poi magari risultano innocenti ne abbiamo viste di tutti i colori abbiamo parlato prima del caso lo ricorderai di Antonella Di Veroli delitto dell'armario abbiamo parlato con Mauro Valentini e lì fu distrutta la vita di Vittorio Biffani che poi risultò innocente infatti fu assolto ma fu infangata anche la memoria della povera Di Veroli da una certa stampa quindi è importante ecco volevo farvi sentire cosa ha detto a Taormina il ministro Nordio sull'abuso d'ufficio perché poi è quello che ha scatenato diciamo la polemica maggiore viene cancellato con un tratto di penna perché le modifiche introdotte in questi anni non hanno eliminato lo squilibrio tra le iscrizioni nel registro degli indagati e le condanne l'anno scorso sono stati archiviati 3536 dei 3938 fascicoli aperti nel 2022 e questi già sono dati che fanno riflettere e nel 2021 in primo grado pensate ci furono solo 18 condanne di tutte queste storie di abuso d'ufficio sentiamo cosa ha detto su questo punto proprio il guardasigilli intervistato ieri a Taormina far coincidere quelli che sono le illegittimità di un atto amministrativo con la illiceità penale è un gravissimo errore tanto è vero che per rimediare alla illiceità dell'atto amministrativo per eccesso di potere svilamento di potere violazione di legge via il giudice amministrativo cioè via il Tar e via il Consiglio di Stato e l'altro giorno tra l'altro ero proprio parlando con il Presidente del Consiglio di Stato non abbiamo parlato specificamente di questo però alleggiava il principio alleggiava con gli sospetti ma noi che ci stiamo a fare noi giudici amministrativi se ogni qualvolta c'è una illegittimità di un atto amministrativo se ne occupa il pubblico ministero se ne occupa la conclusione l'arsenale punitivo sanzionatorio degli atti amministrativi deve essere graduato deve partire dalla dichiarazione dall'intervento del giudice amministrativo che ne recca l'annullamento ed eventualmente il risarcimento del danno a chi lo ha subito fino al carcere per i reati più gravi come la conclusione quindi l'Italia non va in controtendenza rispetto a questa direttiva di cui si parla è un'altra di quelle fake news naturalmente noi ascolteremo con grandissimo interesse tra l'altro vi è nella relazione di accompagnamento una nostra riserva che se l'Europa ci chiedesse una sorta di rimodulazione del nostro sistema integrato di repressivo noi siamo disposti ad accoglierlo ma non nella forma in cui esisteva adesso l'abuso di ufficio che era così evanescente e atipico da non avere uguali tra l'altro in nessun altro ordinamento europeo perché anche di questo nemmeno di questo si parla tanto è vero che gli stati europei non hanno la percentuale di sindaci di amministratori sotto inchiesta che abbiamo in Italia così il ministro della giustizia Carlo Nordio ieri al Taormina Book Festival siamo praticamente in chiusura ma visto che abbiamo sia la dottoressa Fabroni che Michelle Maritato coinvolti in quello che è l'osservatorio criminologico e anche in una bellissima trilogia di libri li possiamo vedere partendo dall'ultimo anzi dal penultimo che è quello su Aldo Moro ricordando ecco Aldo Moro una verità compromessa con la prefazione del sottoscritto e poi il contributo anche della dottoressa Fabroni e non solo ma prima ancora c'era stato il libro su Pierpaolo Pasolini la trilogia si completa con questo libro che andiamo a vedere non sa nulla Michelle Maritato spero che posso spoilerare il petrolio secondo Mattei questa è la nuova opera in uscita con Michelle però dobbiamo fare dei ringraziamenti a proposito di un evento che c'è stato oggi di cui sei reduce da cui sei sì assolutamente oggi è stato presentato il libro di Aldo Moro una verità compromessa quell'altro il secondo della trilogia presso Ornaro e grazie all'organizzazione del politologo Mariano Leoni e grazie alla sponsorizzazione del dottor Luca Lamonaca Caffè Ternano Cuore Umbro e quindi volevo ringraziarlo perché insomma grazie a loro due si è potuto procedere a questa manifestazione dove erano presenti oltre 150 avventori quindi abbiamo giocato in casa lo salutiamo Luca che è un amico Luca assolutamente assolutamente anche Mariano è un altro nostro collega quindi giochiamo veramente totalmente in casa abbiamo fatto una cosa targata Unigusano Unigusano Media Group e sarà veramente emozionante molto bella in una cornice bucolica fantastica dove 150 persone di domenica alle ore 16 con il caldo importante invece di andare al mare sono venuti a vedere e a capire e a scoprire ancora una volta la cultura e la verità su Aldomoro grazie a voi tutti grazie a Michelle Maritato buonanotte ci rivediamo domenica prossima buonanotte saluta la dottoressa Fabroni per Michelle che non ha risposto da ventrilo quasi Michelle buonanotte buonanotte alla dottoressa Fabroni grazie a entrambi grazie e noi chiudiamo con ancora un ringraziamento al direttore artistico Antonello Risati alla regia di Alessio Dancorra la linea ora passa alla regia centrale di Lorenzo Guidotti grazie a tutti voi per essere stati con noi ci rivediamo domenica prossima con Crimini e Criminologia grazie a tutti